ciao io sono el gasi questo è il podcast di el gasi e qui con me in regia c'è chris ancora lui adesso c'è la camera ma non il microfono e dobbiamo 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 pensare alle robe tecniche io devo chiamare un fonico chris non glielo voglio attaccare dice troppe cazzate noi siamo ancora non per non per molto ma siamo ancora da fame da da nessuno siamo nel nessuno group in viaggio a cosa 35 zona nolo trovate un'amburgeria una bireria un negozio di vestiti uno skate park e uno studio e non per molto poi capirete perché lo sto dicendo tra un po che cambieremo studio però per ora ci potete venire a trovare era solo questo chris il nostro il nostro sponsor ha preso un break si si e l'ospite di oggi io sono onoratissimo di avere di avere qui io direi che anche è stato un mio professore di motion design tai ma tai si dice il tuo cognome si dice yuko no il cognome tai il cognome tai innanzitutto innanzitutto però siccome yuko è troppo complesso mi chiamano tutti tai ecco questa cosa non ho messo a punto lo sai poi è un casino invece quando facciamo le riunioni di famiglia che sono tutti tai miei cugini mio padre quindi esatto le rispettive fidanzate tipo la mia fidanzata fidanzata il mio cugino eccetera eccetera chi ha ci chiamano tai ok ma anche i miei cugini quindi tipo la fidanzata il mio cugino a tai e tutti che si girano senti diciamo abbiamo bisogno un po di introdurre introdurre chi sei tu sei di origini cinesi giusto cinese di taiwan ok sì 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 però sono nato a milano quindi sono milanese praticamente si milanese si sente anche dall'accento si sente un po l'accento e direttore creativo giusto direttore creativo di alkanoids alkanoids yes sono onoratissimo di averti qua infatti in tutte le in tutte le puntate quasi tutte io racconto no ragazzi io ho iniziato a fare motion da alkanoids sì 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 racconto racconto a iniziato ha iniziato lì ma ma da dove è nata questa idea di fare studio no di fare grafica e fare a proprio io personale sì 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 proprio te personalmente ha una storia lunga perché siamo qui apposta stiamo parlando proprio di tanti anni fa di tanti anni fa così giusto per intenderci mi sa che vabbè questa cosa è natale superiori tra l'altro tu hai fatto il caterina da siena il caterina da siena il famoso caterina da siena famoso caterina da siena io in realtà no non facevo facevo lizzos prima ok un istituto tecnico non c'entra niente con la grafica col design niente però lì già mi annoiavo a morte ok e quindi mi sono ritirato in seconda superiore cazzo cioè io a 15 anni 14 anni ho detto no questa roba qua mi fa schifo sono rimasto a casa proprio insieme al mio mio migliore amico che anche lui mega appassionato all'epoca di fumetti queste robe qua abbiamo detto no abbiamo bisogno di cambiare quindi ci siamo ritirati da scuola ok siamo rimasti a casa ci siamo preparati per entrare al caterina da siena ok il test era complicato no il test era imbarazzante adesso non voglio dire che però catena da siena non ho avuto grandissima formazione da quella scuola lì mi ha giusto dato come dire l'idea a 15 anni non sapevo niente che esisteva la professione di designer certo e basta poi in realtà ma tu sai che tra l'altro è venuto un altro un altro ragazzo che se si chiama luca misuraka lui ha frequentato il caterina da siena e abbiamo gli raccontiamo tutti la stessa storia anche te hai detto la stessa cosa non mi ha dato molto allora in realtà c'è stata una scuola dove mi sono divertito tanto ok avevo la libertà di fare tante cose perché non era una scuola impegnativa diciamoci la verità non è che dovevi studiare tanto per passare gli esami no quindi questa cosa qua mi ha dato la libertà di provare sperimentare fare cose che mi piacevano ok tendenzialmente volevo fare fumetti volevo disegnare fumetti infatti insieme al mio socio che è marco che è un amico storico abbiamo cambiato scuola insieme siamo andati al caterina da siena abbiamo fatto anche i primi lavori insieme ci siamo formati insieme e la nostra idea era inizialmente di fare fumetti cioè noi volevamo disegnare fumetti ma aspetta marco è baldo baldo si fa lettering fa tutto sì sì no ma infatti magari se ci ascolterà magari puoi invitarlo è molto interessante sì baldots ci siamo conosciuti che lui faceva lettering sul legno tipo sì beh lui ogni ogni tot si appassiona di qualche cosa studia lui in continuo studio infatti anche adesso lo sento ho iniziato un corso di ok va bene sicuramente una delle persone più interessanti che conosco è se viene qua vi può raccontare un sacco di roba dai lo invitiamo quindi con lui tu hai tra l'altro lui master di skate davvero certo cazzo deve venire qui ancora in questo storico poi vabbè adesso non lo so nel senso che forse non non lo so se cioè è vecchietto è ormai come me purtroppo siamo vecchi vecchio vabbè siamo vecchi e quindi niente vai dal caterina da siena poi lì ci sono stati sì ci hanno aperto un po l'idea di che cos'era il design come funzionano le robe però più autodidatti nel senso abbiamo iniziato a studiare cose insieme però in quel periodo lì è una roba un po particolare perché all'epoca internet era appena nato parliamo dei fine anni 90 non c'era comunque i siti erano niente non se cercavi motion design non esisteva proprio come parola ma proprio non esisteva cioè ok quindi come come abbiamo fatto ad arrivare a questo mondo qua è stata una roba incredibile io ho finito la quinta superiore di caterina da siena e un mio amico mi ha invitato in montagna da lui ha detto dai vieni in montagna con me a fare l'estate vabbè vado a fare l'estate in montagna da lui diciamo che un po mi sono annoiato perché non bevo non fumo e cioè a me piace parlare con persone che mi possono stimolare che mi interessano diciamo no e lì in montagna ovviamente la gente beveva fumava tutta l'estate ho beccato una ragazza inter super interessante e lavorava per la televisione faceva sigle per la televisione ok e la cosa mi aveva incuriosito perché lei mi fa e io faccio questo di lavoro poi non so come spiegarlo bene però non so tu conosci tipo le quantel ho detto cosa che cosa cazzo sono le quantel no e vabbè sono le macchine su cui noi lavoriamo e facciamo grafica animata oppure facciamo compositing queste cose qua e ho detto guarda non conosco e poi c'è questo software nuovo che si chiama after f e io casualmente siccome ero un nerd ok sapevo usare photoshop illustrator dream non eri non eri non sei no ero non sei più un nerd sì sono ancora però ero super nerd e quindi quando mi ha detto after f io l'avevo visto semplicemente perché era nell'elenco dei software dell'adobe ma non l'avevo mai aperto after no ok e gli ho detto ah sì after è dell'adobe e lei mi fa bravo si è dell'adobe così questa era l'unica cosa che sapevo di after e niente io spudoratamente alla fine delle vacanze gli ho detto ma se vengo a trovarvi in studio e lei mi ha detto vieni che storia e da lì ho iniziato perché cioè lei lei mi ha formato lei è il suo socio che avevano uno studio mi hanno formato lì c'erano due strade ok perché lei lavorava sulle quantel che sono erano delle macchine io non so spiegarvelo però non c'è questo è un format molto le quantel erano erano dei computer hardware e software integrati ok non c'era sistema operativo né windows né mac erano un computer a parte all'epoca del delle lire costavano circa un miliardo di lire che va più o meno siamo sui 500 mila euro il computer 500 mila euro un computer erano delle macchine degli scatolotti giganteschi e c'era la sala dove c'era solo il monitor tavoletta grafica che tu immaginati nel 99 vedere una tavoletta grafica un evento unico ho detto ma questa roba qua che cavolo è e quindi beh ovviamente mi sono super appassionato a questa cosa qua siamo andati perché io sono andato con marco ok io mi sono presentato non da solo in due ci siamo presentati e abbiamo deciso di lavorare lì di fare una prova di fare un'esperienza e lei ci ha chiesto ci ha detto guarda esistono le quante e loro erano lavoravano sulle quante però mi ricordo proprio questa cosa qua perché quello che mi hanno detto è stata se io adesso ti insegno le quante sappi però che fra qualche anno le quante moriranno non ci saranno più quindi forse è meglio se studi after f ok quindi io e il mio socio siamo andati a libreria abbiamo trovato l'unico manuale l'unico after era la versione 4 4 ancora grigio credo che adesso after non so cos'è la versione di adesso 22 22 io la 4 4.1 4.1 mi girava sulle sulle macchine oppure si su pc o mac ok pc e mac in studio avevamo i mac ci avevano avevano preso i primi mac ai mac o i mac pro g3 sì 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 ho preso i colorati ok e girava after mi ricordo che girava girava after e noi ci siamo messi a studiare dal manuale nel libro era l'unico l'unico modo che c'era unico internet non ci non ci dava una mano perché considera che in studio noi avevamo tipo i modem quelli che alla mattina accendi e le accendevi solo per far ricerca ma poi poi li chiudevi non è che sì sì perché erano a consumo appena l'accendevi iniziava a consumare i dati i dati quindi pagavano quindi infatti mi ricordo che comunque ci hanno detto che insomma se non se non dovevamo utilizzare internet per far ricerca dovevamo spegnerlo non è quindi così che figata altro mondo è proprio già stiamo parlando di un altro mondo cioè tu sei partito dei quante non le ho imparate le ho viste le ho viste utilizzare ma non le ho mai imparate perché giustamente la mia capa mi aveva detto che questa non era il futuro per pensare al futuro bisognava prepararsi con after quindi noi abbiamo iniziato con after e mi ricordo all'epoca si compravano i software originali e c'era la confezione no cioè ti arrivava la confezione a casa con lo scatolotto tiravi fuori c'erano cd c'erano i cd rom e c'era in allegato un cd rom di presentazione di after dentro c'era me lo ricordo ancora l'intervista a kyle cooper avete presente chi è no kyle cooper si può parlare del padre moderno della motion design ok è quello che ha fatto tanto per intenderci nel 97 o 95 se non sbaglio i titoli di testa di seven ok stra famosissimi ok è quello lì no non penso adesso adesso ce lo trova ce lo trova e tendenzialmente lui è stato il primo nell'era moderna quindi dagli anni 90 a dire forse la motion design va fatta con after perché after f è un software di compositi non è nato come software per fare motion design anche perché il nome che è rimasto dall'epoca e after effects quindi parliamo di effettistica non di motion esatto di se sapete se sapevano che after serve diventato un software di motion design magari l'avrebbero chiamata motion esatto per dire invece si chiamava after f è rimasto il nome after f però è stato kyle cooper che all'epoca ha detto ma sai che c'è tutti questi effetti di distorsione delle lettere delle cose le faccio con after e after da lì proprio perché lui ha deciso che after poteva essere utile per il mondo della motion design per i titoli di testa è stato utilizzato per quel mondo lì quindi lui è il padre moderno della motion design padre il padre moderno di 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 come adesso si fa motion tramite tramite al se lui ha fatto i titoli di 7 poi ha introdotto il 3d perché ha fatto i titoli di spider man che erano in 3d 2000 2 2000 sì 2002 2003 7 e 9 e 9 e 97 e quindi è stato lui a dire ok qua non c'è un programma per motion usiamo after effects che ha scoperto lui che sia mentre Parallelamente, lui per il cinema Ok Parallelamente per la televisione invece si usavano le quantel Le quantel erano appunto queste macchinone costosissime Mi ricordo che l'interfaccia Tu accendevi il computer, ci volevano, non so, dieci minuti per farlo accendere Che follia Intanto ti facevi il caffè, quelle robe lì Ok, accendevi il computer E poi tu arrivavi direttamente al software Il software erano tipo, c'era lo schermo, era diviso in tre parti Ok, ecco, forse lo stiamo guardando Era con quella scheda gra... Quella impostazione lì, la vedete? Facciamola vedere, sì, sì, facciamola vedere Poi è bellissimo perché la quantel era la casa madre Poi c'erano i vari modelli dei computer che si chiamavano con dei nomi Tipo c'era Al, Arianet, Henry Erano tutti i nomi, no? E ogni computer, ogni modello delle quante l'uscita aveva quei nomi lì Quindi si lavorava su Al, si lavorava su Henry, si lavorava su Arianet Ma che poi, ripeto, io non ci ho mai lavorato Io ci ho smanettato due o tre volte perché sono entrato nella sala Però non era quella la direzione, no? Sì, però se ci pensi che tu mi stai dicendo questa cosa, io non la sapevo Non sapevo nemmeno come si faceva motion prima di after Non abbiamo mai avuto questa chiacchierata Cioè, è una cosa per me assurda Ma infatti, guarda, negli ultimi, io che vengo da un mondo un po' più antico e vecchio Mi chiedo, cioè, mi chiedo spesso e volentieri che cosa sia la motion design, no? Esatto Perché, poi non so, anche molte persone che sono venute qua, che ovviamente sono tutte giovanissime, no? Sai, cioè, l'animatore, si fa confusione perché si parla di animazione Si Si parla di 3D, no? Però, di base, che cos'è motion design? Un po' quel Esatto Che io vengo da un mondo in cui, ovviamente, non c'era il 3D nella motion Non si faceva animazione vera e propria Non c'erano i concetti di animazione che c'è adesso Figurati il passo 1, no? Esatto Che a quei tempi era solo animazione per Disney Guarda, noi quando avevamo iniziato a fare le prime sigle con After Noi buttavamo giù i keyframe secchi Sì, 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 senza Cioè, le prime sigle che noi avevamo fatto Erano secche Poi non c'era storyboard Non facevi uno storyboard, no? Non c'era style frame Tu facevi la sigla, la mandavi al cliente E ti diceva Sì, va bene, magari cambiamo un po' questo colore Va bene E tu cambiavi il colore e consegnavi la sigla E quello era motion design? Quello era il metodo Poi nel 2003-2004 Un grossissimo stacco È stato l'arrivo in Italia di Sky Ok Perché? Perché Sky, essendo londinese, essendo internazionale Mi ricordo che loro volevano progettare, no? Infatti parliamo di motion design da quegli anni lì Perché prima era motion graphics Cioè, grafica in movimento Sì? Motion design, invece Qual è la differenza? Questa è interessante Motion design è Cioè, il design vuol dire progettare Ok Progettare un movimento Il che non vuol dire muovere la grafica e basta Ma avere un concetto, un'idea Certo Quindi tu parli di motion design Perché io progetto anche il movimento di questa cosa qua Oltre alla grafica Certo Come entra questo oggetto? Perché questo sottopancia entra da sotto e non dal lato? Perché invece l'elemento si apre dal centro o si apre dal lato? È il concetto di design in animazione In movimento Perché gli dai un perché? Sì Poi c'è anche una Secondo me c'è anche da chiarire che muovere non è animare Esatto Ok Quindi che cosa fa il motion designer? Non lo so Cioè Per quello io spesso mi ritrovo a chiedermi Poi magari lo chiedo anche alle nuove generazioni Che cosa faccia la mia vita? Fino adesso Che cos'è la motion design? Cioè, in realtà non è così chiaro Credo che forse serva addirittura scrivere proprio chiaro e tondo che cos'è la motion design adesso Ma io credo sia così difficile parlare di motion design perché la motion design nei pochi anni in cui c'è stata Quindi parlo dell'era digitale della motion design Ha avuto una incredibile evoluzione Molto di più di tutto il resto Perché la motion design è come se fosse una branchia del design dove però è avida di tecnologie E di nuove tecniche Io da quando sono Da quando ho iniziato a fare motion design con After Effects Cioè la motion design ha catturato al suo interno una quantità di cose incredibili Io mi ricordo il periodo dove c'era Flash Allora tutte le animazioni di Flash pettoriale Poi c'è stato il 3D E non vuoi usare il 3D? E quindi integra anche il 3D Però il 3D fino a chi livello? Perché io all'inizio il 3D era quadrati, cubi, sfere, cose di questo tipo Poi però si è introdotto il 3D fotoreal Il 3D cartoon Il 3D fatto in un certo modo Cioè c'è stata un'evoluzione pazzesca Solo della parte dei 3D Cioè chi fa motion design fa anche 3D quasi fotoreal Esatto E dall'altra parte è entrato anche tutto quel mondo legato all'animazione Concetti di animazione Quindi la scuola di animazione Le 12 regole, i principi di animazione della Disney Che sono stati introdotti dentro motion design Quindi la motion design è come se avesse un po' Ah cosa c'è lì di bello? Ah vado a prenderlo Cos'è quello? Ah figo lo porto dentro Stop motion Perché poi non c'è limite Cioè io vedo, non so, parlo dei titoli di testa di film A volte vedo anche dei titoli di testa magari solo titolazioni Quindi puro font Puro Chiaro No? Cose bellissime Solo di font Oppure girato Mix con 3D O questo Cioè ha un mondo infinito Sì 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 E credo che per questo io sono entrato in questo mondo Perché io di base sono una persona molto curiosa che vuole conoscere più cose Ok E questo mondo qua, cioè il mondo della motion design Mi ha permesso di ogni volta rinnovarmi e imparare delle cose nuove Sì Di conoscere più cose possibili per fare, per creare Diciamo che in generale mi annoia moltissimo ripetere le cose Ok Ok Mi annoia fare una sigla e poi rifarla per un altro cliente uguale Ok Cioè questo personalmente quando io proprio lavoravo proprio tecnicamente E quindi io cercavo di introdurre delle cose E ti faccio un esempio Quando io lavoravo sotto la frame by frame Che è quella che tra virgolette mi ha veramente formato C'erano le divisioni Quindi c'era chi faceva motion design e chi faceva 3D Ma non c'era un mix insieme, no? E quindi noi se volevamo proporre una cosa di 3D dentro motion Dovevamo appoggiarci al reparto di 3D Chiaro Ok Il reparto di 3D, poverini Loro volevano fare i dinosauri No? E noi gli dicevamo Allora metti dei cubi No? Fai scontrare due cubi E poi E loro c'erano Noi Annoiati Ma no, fammi fare un dinosauro, no? Queste cose qua E mi ricordo proprio che Allora a un certo punto Abbiamo detto Vabbè ma perché non facciamo noi 3D? Sì E quindi abbiamo iniziato a studiare cinema 4D Poi c'è chi era più avanti Tipo il mio collega era più avanti Sapeva già usare cinema Quindi mi ha dato una mano a me Poi ho formato altre persone Eccetera eccetera Sul 3D E proponevamo degli storyboard Degli style frame al cliente Con dentro del 3D Azzardate E mi ricordo Che il mio capo mi chiamava E diceva Scusa dai ma Ma questa roba qua è in 3D Sì Ma io al cliente gli ho detto Cioè nel senso il preventivo Se c'era il 3D Non è questa roba qua E io ingenuamente Per me era solo divertimento Io volevo divertirmi con qualcosa di nuovo Perché il tuo ruolo era solo 2D Cioè era solo fare All'inizio sì perché After Effects era affermato nel frattempo E quindi chi faceva motion Faceva praticamente Usava After Ok Principalmente Poi noi Cioè quella generazione lì Ha iniziato ad andare un po' oltre E quindi a dire Ok usiamo cinema Integriamo cinema Usiamolo sempre di più Infatti da lì Abbiamo sempre usato il 3D Anche per fare motion Sì Anche perché il livello Comunque era più basso Rispetto a chi faceva 3D Ok Il reparto di 3D Per dirti Loro usavano Maya Ah ok O 3D Studio Max Ok E noi usavamo cinema Quindi ci vedevano un po' Come per dire Inferiori Inferiori Questi che non sanno fare niente No Cioè Sì Sì Ma Non sanno fare i dinosauri Esatto Non sanno fare i dinosauri invece Sì sì Sentivo l'intervista che hai fatto sulla Rigger Sì sì Con Ilaria Trollier Molto interessante No no Infatti si è parlato molto di 3D E del Di come Sono i ruoli Dentro Un'agenzia che fa gaming Che lavora con il gaming Ma è interessante perché Tu quindi hai imparato praticamente La grafica Manuale Cioè grafica su carta E dopo hai scoperto Allora no Ho avuto Cioè in realtà La grafica Proprio Su carta No Io ero già sul digitale Anche a scuola Ma è strano perché Io ho fatto della grafica Su carta Al Caterina Al Caterina Anche a me No no Anche a me Ah ok ok Allora è successo questo Che al Caterina Alla Siena Loro non avevano I laboratori per fare digitale Ok Avevano una sala computer Per tutta la scuola Ma nessuno gliene fregava niente A noi ci facevano fare le bozze No ok Layout Quelle robe lì Però L'ultimo anno di scuola Quinta superiore Siccome Loro non avevano i laboratori giusti Ci mandavano un giorno alla settimana Alla Bauer Ok Quindi io ho fatto il quinto anno di superiori Con un giorno alla settimana Alla Bauer E lì mi si è aperto un mondo Perché io in un anno di Bauer Un giorno alla settimana Ho imparato più cose Che in quattro anni Capito Al Caterina da Siena Perché Perché la Bauer ha questa cosa Dove i professori sono professionisti del settore Sì Noi avevamo dei docenti che Oltre a insegnare noi Lavoravano nel settore Quindi Se impaginavamo Noi impaginavamo con gli strumenti giusti Certo All'epoca si usava Express Che non esiste più Vabbè adesso è stato sostituito da InDesign Da InDesign Sì Però Express Vabbè era il software di riferimento per tutta l'editoria Pensavo Corel Draw Non credo che sia mai entrato a livello professionale Ok No Corel Draw Per carità di Dio No no Express 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 era un software per impaginare legnosissimo Posso dirlo? Sì Era uno dei software Poi vabbè Quelli che usavano Sono magari affezionati a Express Tra l'altro c'era una roba fighissima di Express Dove Tu per cancellare facevi mela cance No E no Facevi cance per cancellare un elemento Sì Ma se facevi mela cance Usciva un alieno da sotto In pixel art Ok Che sparava il raggio Verso l'oggetto Che volevi cancellare Oddio Ti giuro Ti giuro E se lo facevi tipo tre volte di fila Veniva il disco volante dall'alto Che colpiva l'oggetto Cazzo Sì sì Questi sono gli easter eggs Dei software Era quasi un videogioco Tutte queste cose sono bellissime Infatti parlo ovviamente a generazioni Cioè i miei amici Che lavorano in editoria Che saluto Sì 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 Che loro lo sanno Credo tutta la nuova generazione Non li ha mai affrontati Qui si sa Meno male No Secondo me gli anni Gli anni 90 Per la grafica Sono stati Il momento di rivoluzione Perché dal 2000 in poi Con After Con Photoshop Eccetera Sì Guarda io ho fatto un anno Vabbè io ho fatto tante cose No Però un anno Subito dopo Il Caterina da Siena Dove ho lavorato Proprio nel mondo Dell'editoria Quindi impaginavo riviste Brutte Ok Sì Fossi andato a lavorare A Wired Da dici Ma no Purtroppo Ero piccolo Avevo vent'anni E mi sono ritrovato Ovviamente In case Non case editrici piccole Perché comunque Parlo di Cairo editori Mondadori Queste cose qua Grandi Sono comunque grandi E mi ricordo C'è il mio art director Della redazione Che mi raccontava Che ai suoi tempi Cioè loro quando Finivano di impaginare Un numero mensile Ogni mese brindavano Perché c'è Riuscire a finire Una rivista mensile Con una redazione Dove c'erano tipo Dieci grafici Per una rivista Tu tieni conto Che quando io Facevo editoria Già nel 2000 Io impaginavo Tre riviste mensili Da solo Cazzo Al mese Cazzo allora Sì perché tanto Cioè tutto No All'epoca invece no E non so neanche Come facessero Però lui mi diceva Che finire una rivista Era un evento E loro brindavano Ogni volta Che andava in stampa A una rivista Aprivano una bottiglia Aprivano una bottiglia Certo Però ti parlo Di altri tempi No no Sì sì Cioè sono i miei ricordi Di quando ero piccolo E dei miei capi Quando mi raccontavano Le cose Sì Quindi cose ancora Più vecchie Allora io non so Chi ci sta guardando Però io sono super Incuriosito Da questa cosa qua Perché È come a pensare Le tue origini Della famiglia No Dici cavolo So da dove sono venuto E probabilmente dove andrò Perché se conosco Il mio passato È molto più facile capire Che cosa farò Della mia vita in futuro E capire Da dove viene la motion Da 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 dove prima si faceva Non si è sempre usato After After Non era un programma Di Era un programma Di compositing E non di Per fare motion Che tuttora Non esiste un programma Per fare motion No perché tu potresti Anche progettare Banalmente a mano No Cioè nel senso Ci sono anche casi Già fatti Di titoli di testa Di film Dove Costruisci il set Con tutte le lettere E poi fai la ripresa No Video di tutte le parti Sì Non so Il titolo di testa Di Delicatessen Un film Abbastanza vecchiotto Dove C'era questa Piano sequenza All'interno di questa stanza Dove Quello bellissimo Quello dovete Dovete vederlo Sì Praticamente Passavi Su tutti gli oggetti E ogni volta Si fermava Su un punto Dove poi c'era scritto Montaggio di O Non so Fotografia di No Queste cose qua Ed era tutto studiato Perfetto E anche quella Emotion Capito Stiamo provando A metterlo A metterlo giù Delicatessen Però i titoli Di L'open title Open title All'epoca Erano Open title Ok Poi Sì 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 Poi diciamo Dal 2005 2006 Sono un po' Ronti le pelle Questo è Praticamente Un cortometraggio Cioè I titoli di testa Di Delicatessen Sono praticamente Un mini cortometraggio Sono spettacolari E poi Cioè Comunque riprendono Dei titoli Ancora più vecchi Perché se tu guardi Viale del tramonto Un film Degli anni 40 Ok Stiamo parlando Degli anni 40 I titoli di testa Del film Partono Dalla scritta Viale Sunset Boulevard La scritta Che c'è sul marciapiede Sunset Boulevard E quello è il titolo Del film E il carrello Va indietro E sulla strada Sono messe Le scritte Quasi in 3D Come fossero Traccate Era un primo Esperimento Di tracking Ma questo ti parlo Degli anni 40 Sì Io non so neanche Come facessero A traccare le scritte O a fare le scritte In questo modo qua Ah le robe incredibili Eh sì Ma tu Come definiresti Oggi Che cos'è La motion design Ad esempio Bella domanda Perché tu hai detto Vabbè Ancora Non sappiamo dare una definizione Tu come la definiresti Perché si può fare Come hai detto tu In tutti i modi O comunque La puoi chiamare sempre motion Non so Io Più che altro Cioè nel senso Io sono Sono nato in un periodo E quindi per me La motion è quella No Ok Una cosa interessante Che vorrei capire Anche magari Da questo podcast No Cioè vorrei avere L'opinione Anche di giovanissimi Che affrontano Questo mondo E quindi vorrei capire Da loro Che cos'è per loro La motion design Secondo me Questo è interessante Chiedo al pubblico Sì 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 Che cos'è la motion design Scrivete Scrivete nei commenti Nei commenti Che cos'è La motion design Per voi Ascolta Cioè però Andando a fare un minimo Di ricerca Perché se scrivete Cioè Sì Forse non c'è neanche Una pagina di wikipedia Sulla motion design O c'è Ma in inglese Forse non c'è neanche In italiano Non esistiamo Motion design Sì Ma infatti Secondo me Fai bene In questo podcast Comunque affrontare Argomenti anche Argomenti vari Più vari Questo bellissimo Tipo anche Questa della rigger Per i gaming Cioè C'è tutto un mondo Da scoprire Sì Bellissimo Eh sì Se ci penso Per me era Ovvio che cosa fosse La motion design Facciamo animazioni Di titoli O intro Per la televisione Per i film O per Oggi i canali youtube Però se ci penso Le altre professioni Ce l'hanno Una definizione Ben precisa Noi Siamo veramente Un po' vaghi E io mi sorprendo Ancora adesso Per esempio Ho visto nel tuo podcast Il gruppo Che fa le grafiche Per twitch Sì I backstarts Esatto Tra l'altro Andrea Andrea Spergers Doveva venire A fare il dacco host Con me Ok E parlare E fare due chiacchiere insieme Non ha potuto Non è riuscito Ma sai perché Perché Cioè Io Anche se Ascoltando Il tuo podcast Ho capito Che la motion È entrata Anche su twitch E anche su quella cosa lì E per quello Io ogni volta Mi domando Ma quindi La motion design Capito Perché Io faccio scarpe E faccio scarpe Ci vuole una frase Per dire Che lavoro fai No Ma il motion design È in continua evoluzione Quindi Perché poi Molti motion designer Dicono Sì sì Io faccio motion Per cui animazione Quindi sei un animatore No È un po' schizofrenica Questa cosa Oppure Sì Faccio motion Però 3D Ok Fai 3D Quindi motion e 3D Adesso che ci penso Infatti sono quelle cose Che non ci pensi mai Ma adesso che ci penso Io tutte le volte che dico Sono motion designer Le persone Le dico Ah Design 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 No no Motion design No no motion design Grafica Grafica Motion design Che cosa vuol dire Sì Sì in effetti È una cosa che A me capita Spesso di Di ragionarci Soprattutto quando poi Uno parla Della propria esperienza No e ti dice Ah sì sì Ho fatto questo Faccio questo A me mi capita ovviamente Di fare colloqui A destra manca Chiunque E quindi chiedo sempre No da dove viene Che cosa ti piace fare Cosa vuoi fare Però E lì mi rendo conto Che Cioè Fare motion design O dire Sono un motion designer È tutto e niente Sì sì Se vuoi no Quindi Eh sì Ad esempio Se ci pensi Emanuele Colombo No Lui Fa Delle animazioni Cioè Lui non fa motion design Lui fa animazioni Eh lui è più Su genere Di animazione Vettoriale Con character Quindi Cut out Comunque Pensiamo ad altri artisti Adesso c'è questa moda Comunque di animare Dentro after Sì Per la Per la motion Però Effettivamente Se tu stai animando Un personaggio Sei un animatore Sì Esatto Esatto Allora Per te Ritorniamo alla domanda Vediamo se riusciamo A trovare una soluzione A questa cosa Non la troverai Perché anche io Io ho una confusione In testa In questi ultimi anni In questi ultimi anni Che è veramente Sì E la conferma È anche Quando vado Ai venti Come l'off Sì Dove non c'è Una linea Cioè non c'è Una definizione Una linea Una linea Di che cos'è Motion design O no E quindi Ognuno si presenta Con quello che è Sì Faccio motion design Però più 3D Più 3D Oppure faccio motion design Però più animazione Ok Ok quella roba lì Oppure Però più questo Più quest'altro Sì Deve comunque comprendere Tanti aspetti Quindi dal 3D Al 2D Animatori Passo 1 O cut out E poi Perché Anche nel mondo del cinema Per esempio Il regista Di base Non è che Fa qualcosa Di preciso No Il regista Ha La sua Troop Quindi Collabora con Direttore della fotografia Con i costumisti Con i scenografi Con Lo sceneggiatore Che scrive la storia Col montaggio Ma non è che lui monta Non è che lui fa i vestiti Non è che lui fa Non è che lui recita Lui Ma lui è Di fatto No Un po' alla regia Sì E per cui Penso Che comunque Chi fa motion design E soprattutto Chi ha uno studio poi Deve andare A dirigere Tutte le Le caratteristiche Verticali Che ci sono all'interno Quindi C'è chi Che è bravissimo E fortissimo Sull'animazione Chi è bravissimo E fortissimo Sul 3D Chi fa 2D animation In Passo 1 No Cioè Tutta una serie di cose E quindi devi essere Molto bravo A fare la regia Se vuoi di tutto Cioè Vuol dire Non fare niente Ma ok Perché Non vuol dire questo Assolutamente Ma non è questo Assolutamente Perché poi Il regista Alla fine È colui Che decide Prendere decisioni E ha la visione Totale Del film Completa Cioè dall'alto Sì Quindi se un direttore Da fotografia Ti dice Mi piace Vorrei farla Illuminata così Il regista deve dire Sì ma Per il film Non va bene Chiaro Cioè Lo devi illuminare In quest'altro modo Perché per Per la storia Che voglio raccontare Che questo film racconta Quest'illuminazione Non va bene Stessa cosa Costumisti È ovvio che il costumista Vorrà fare Il costume più figo Del mondo Chiaro Ma magari non va bene Per questo film E allora il regista Ha il compito Di dire Alle vari reparti Se quella cosa È giusta o no Per la visione più 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 Completa Che ha Perché il regista È l'unica persona Che ha La visione completa Del film La visione del totale Del totale Dell'idea Del totale Vede il film Dall'inizio alla fine Sì Tutti gli aspetti Cioè Un costumista Non dialogherà mai Con chi ha scritto La sceneggiatura O la storia No Però il regista Sì Il regista Dialoga con lo sceneggiatore E fa sì Che la storia E il costumista Faccia il costume giusto Per quella storia Per fare un paragone Il regista è Dio È Dio È Dio E i suoi servi È il popolo Guarda Secondo me Neanche Il direttore della fotografia È Gesù No Eh no No Sai perché Perché Sopra alla regia In realtà Ci sono i produttori Ci sono i produttori C'è tutta l'industria No Infatti Poi Questa è una cosa Che forse Non tutti sanno No Il premio degli Oscar Al miglior film È il premio Meno artistico Che si dà Perché Infatti L'Oscar Viene dato in mano Ai produttori Non al regista Non viene dato L'Oscar per il miglior film Ma ai produttori Che cosa vuol dire Vuol dire che infatti Poi molti dicono Eh ma come Quello ha vinto Miglior regia Miglior attore Miglior fotografia E poi non ha vinto Il miglior film È impossibile Com'è possibile questa cosa No Perché il miglior film Negli Oscar In realtà È il È la È il premio Alla produzione Più audace È il premio Al film Che Doveva esistere Quell'anno lì Certo Ok Che ha segnato Un Che è un film Importante Per il momento In cui è nato Il film del momento Esatto Non è il film Capito che Sì Cioè magari È anche il film Più colossal Che c'è in quel momento Ma perché ha segnato Magari un momento Allora No Come nel caso Di recentemente C'è stato Il 1917 1817 Come film Della prima guerra mondiale Che secondo me Meritava tutto l'Oscar Ma invece non ha vinto Non ha vinto Non era il film del momento No Il film del momento era Magari è qualcos'altro Anche quello di quest'anno Io non l'ho visto Quello che ha vinto L'Oscar di quest'anno Che tra l'altro Contestatissimo Perché è un remake Di un film francese Però è una produzione Importante Cioè è una produzione Sofferta È una produzione Che nessuno Gli dava due lire Invece alla fine L'hanno portata a termine Quindi Il premio si dà Per quello Anche Cioè non si dà Per Infatti vabbè Però stiamo divagando Della motion design No 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 Ci sta Ci sta Come È come la motion design Noi siamo motion design E siamo vaghi Sì Tu hai caldo vero? Un po' Chris riusciamo ad aprire un po' Così respiriamo Tanto non c'è più casino No Andiamo Andiamo un po' avanti Con la storia Cioè Tu puoi Addirittura Marca miseria No Pensavo di fermarmi qui Io No Ma Tu quindi dopo Dopo la scuola E dopo essere passato Quell'esperienza A fare motion Allora Come ti dicevo La Quello che ci ha resi Una professione vera e propria È stato Secondo me L'arrivo di Sky In Italia Perché In quel momento Io me lo ricordo Abbiamo iniziato a fare Le sigle Per Sky No Dei vari programmi Sky Cinema Sky Sport Così E mi ricordo ancora La prima volta Che ci hanno richiesto Uno storyboard Cazzo E io lì Così ho detto Uno Un cosa? Un cosa? Cosa stai dicendo? E loro dicevano Eh Uno storyboard Poi Mi mandi Style frame No? Valutiamo Se funziona E poi Lo facciamo Io ero Noi eravamo rimasti al Ti faccio la sigla Ti va bene Ti va bene o no Se no Te la cambio Se vuoi te la modifico Quanto dura Esatto Questo basta Eh No Lì c'era Una progettualità Quindi da Graphic Design Da Motion graphics Arriva alla Motion design Perché c'è Una progettualità Sì Ok Bisogna pensarci Bisogna pensarci Prima Ok Io mi ricordo Che le prime cose Noi dicevamo Ok vabbè ma Lo storyboard Non quello schizzato No no Ma degli style frame No? Magari fateci vedere Uno storyboard In style frame Sì Ok va bene Io praticamente Facevo gli style frame Direttamente in after Quasi già animati Sì E poi li mandavo I primi lavori Li mandavo già Gli style frame Finiti Che ora tra l'altro Anch'io faccio così Sì molti lo fanno Sì Perché è più comodo Hai tutto lì dentro Sì però All'epoca Cioè adesso After è uno strumento Bello completo Più ampio Molto più ampio Ti permette di fare Tante cose All'epoca invece Photoshop O Illustrator Avevano molti più Strumenti in più Ok E all'epoca Chiaramente After aveva giusto Vabbè Non so se hai mai notato Che dentro gli effetti After ha una voce Che sono Quelli Gli effetti Come si chiamano Che non si usano più Obsoleti C'è la cartella C'è la sezione Obsolete Davvero L'hanno lasciata lì Per L'hanno lasciata lì E sai cosa c'è dentro Adesso l'hanno tolto All'epoca C'era L'effetto Transform Cioè Tu facevi un solido E poi il solido Non aveva le trasformazioni Doveva applicare L'effetto Transform Con dentro Scale Rotation Quelle robe lì Come anche il testo L'hanno tolto Mi sembra che adesso Nell'obsolete Addirittura l'hanno tolto Ma dentro Sai cosa c'è C'è ancora l'effetto testo Perché non c'era il testo Tu non potevi scrivere Con un testo Non c'era il livello testo In After C'era il solido Tu creavi un solido E gli davi l'effetto testo E trasformavi il solido Con dentro un effetto testo Infatti nell'obsolete C'è ancora il testo L'effetto testo Oddio Sì Stiamo parlando di Dinosauri Che storia Questo mi rappresenta Molto diciamo No Diciamo che Per Ci sono molte persone Con una mentalità chiusa Che rimangono indietro Nel tempo Tu invece sei molto Molto avanti Addirittura Di chi è oggi Di chi lavora oggi Perché tu conosci Come era prima E sai dove sta Adesso Sì È una caratteristica mia Nel senso che mi piace Continuare a studiare Sì E imparare cose E Il mio ruolo È molto cambiato Perché Praticamente Mentre prima I miei strumenti Io quando ero proprio designer Motion designer I miei strumenti erano Photoshop Illustrator After E chi più ne ha Più ne metta E mi piaceva studiare questo E studiare quest'altro E mettere insieme Il mio ruolo Da direttore creativo Invece Non è studiare I software È studiare I designer Sì Studiare È studiare i designer Ok Cioè Per me È importante Sapere con chi sto lavorando Chi sono i designer Con cui io lavoro Loro sono Tra virgolette I miei strumenti Cioè I miei software Capito cosa intendo E Come io Prima Cosa facevo Studiavo Photoshop Dicevo Ah Vediamo che cosa c'è Dentro questo menu Ah ma c'è questa cosa qui Allora io Ai miei designer Quindi chiedo A te cosa ti piace E quindi mi dico Ah no Io mi piace surfare Mi piace il calcio Mi piace questo Mi piace questa E sono informazioni Utilissime Perché Io Cioè Quelli sono i miei strumenti Certo E sono gli strumenti Che mi permettono Di capire L'assegnazione Più corretta Di un lavoro Ok Perché alla fine Il mio lavoro Come creative director È l'assegnazione Del lavoro Non è mettermi A fare il creativo Non è fare la creatività Quello lo fanno Gli art director Ok Infatti Cioè Io ho assegnato Questa cosa qua A te E quindi Tu sviluppi la creatività Non è che io ti devo dire Come devi fare La creatività di questa cosa Cioè la fai tu Ok Infatti non mi intrometto Sulla parte creativa Perché non è il mio ruolo Anche perché io sono Il direttore Dei creativi Quindi io Dirigi Dirigi le pediglie Io in realtà Scelgo il team Scelgo Qual è il team giusto Per questo lavoro No Certo Se mi arriva un lavoro Che ha Determinate caratteristiche Penso a quali sono Qual è il team perfetto Per poter Realizzare Questo Questa lavorazione qua E questo è Il mio ruolo Praticamente Certo Cioè questo Diciamo Dal tuo percorso Che hai fatto anche Il motion designer Hai messo mano Cioè Come ti ha fatto sentire Questo processo Di dire No ok Io sono un creative director Non sono Un motion designer O un art director Io ho questo ruolo Allora È una cosa che Praticamente Il mio metodo Di lavoro È sempre stato Ok voglio imparare Questo Voglio imparare Anche questo Voglio imparare Anche questo Software qua Questo però Mi ha fatto Anche un po' Capire Che io non sarò Mai eccellente Su una cosa Chiaro Ok Perché se vuoi studiare Tutto Non potrai mai essere Il miglior animatore Il miglior tradista O no Però io posso Invece Come direttore creativo Mettere insieme Un team Di persone Bravissimo Il miglior animatore Il miglior tradista Il miglior animatore 2D Metterli insieme Per questo progetto E allora Ottengo Un progetto Di altissima qualità Perché ognuno È fortissimo Sul suo Esatto E quindi Io La mia evoluzione Non è stata Cerco di migliorare Su ogni aspetto Perché non lo potrò mai fare È impossibile Prendo i migliori In quell'aspetto Prendo i migliori In quell'aspetto lì Cioè Quelli che Secondo me Sono i migliori E metterli insieme E mischiare le cose Mi piace Vedere cosa succede Se prendo questo Lo metto insieme a questo E viene fuori Cosa viene fuori Cosa viene fuori E Ti piace tutto Mettere mano Sui lavori Animare Mettere keyframes Sicuramente È divertente Ovviamente Non mi sono tenuto Allenato Quindi faccio una fatica Quando devo fare Modifiche Io mi tengo magari Delle modifiche Però faccio una fatica Lentissimo Sono il più lento Di tutto Perché tu Comunque insegni Quindi Sai Usare tutti i programmi Mi sono tenuto Allenato su after Quello sì E insegno after No? Sempre insegnato after Al serale Mi piace Perché insegnare Mi porta a studiare Come funzionano Determinate cose Ok Infatti le mie lezioni Partono da molto lontano Io faccio tutta una premessa Di mezz'ora almeno Per poi arrivare a Il comando Certo Perché è lì? Perché c'è Non ha solo A cosa serve Perché è lì? Il keyframe Per me Cioè Io Tu puoi spiegarla con Ok Per mettere giù un keyframe Clicchi qua Poi ti sposti Clicchi Sposti E l'hai spiegato E l'hai fatta L'hai fatto In quanto tempo l'ho spiegata? Sì No? Un secondo Ma perché è così? Perché è così? No? E che cosa Cioè Che cos'è un keyframe? No? È un fotogramma Chiave Chiave in che senso? Ok E allora lì Studio Tutto quello che è L'animazione tradizionale Sì Quindi Quelle che fanno Le posizioni chiave Certo Perché stabilire Qual è L'inizio di un'animazione E la fine di un'animazione No? Che sono i momenti Di keyframe Iniziale e finale Quello è importante Però Cioè deriva da Una storia Molto Molto indietro Molto più vecchia Infatti faccio tutta Un'introduzione No? Sì Che mi serve Per raccontare Cioè Lo faccio perché Secondo me Nell'insegnamento Se tu Al comando Ci racconti Una storia È più facile Memorizzarla Esatto Perché se io ti do il comando Tu domani te lo sei dimenticato Sì A me che non l'hai usato Se io ti racconto Se io ti racconto la storia Quanto meno Tu ti ricordi la storia La colleghi alla cosa E se fra un mese Te lo sei dimenticato Però ti sei ricordata la storia Quindi sai che esiste Quel comando Sì Quindi quel comando Per te esiste Devi solo trovarlo Magari Certo Fra un mese Ok E grazie magari A una storiellina Tu te lo memorizzi E ti rimane Molto più a lungo Nel tempo Sapere che il compositing Di due elementi Viene da Tutto un mondo Di compositing Fatto a mano Questo Era bello arrivare Volevo arrivarci anch'io Perché Io mi ricordo Perché ho detto Che comunque Tu sei stato per me Un punto chiave Io sono uscito Da Alcaterina Direttamente a fare Lo stage Da Alca Io sono arrivato E tu mi hai detto Ok Tutta quella roba Che hai fatto Hai copiato Da internet Shock Fai dei lavori Che sono unici Per te E Tu mi hai dato Diverse Linee da seguire Che era Vatti a vedere Che cos'è il compositing Il primo film Fatto Ah sì Non me lo ricordo neanche Sì sì Pensa un po' te Madonna Me lo ricordo bene Perché Per me era stata Un'esperienza Molto bella Quindi vatti a vedere Il primo film Che è quello Viaggio sulla luna Sì il primo film Di fantascienza Esatto Di Mellier Esatto Di Mellier Che è stato Fatto Tutto Con compositing Montaggio E tutto Lì Lì ho capito Che cosa stavo facendo E viene tutto Da un mondo Il cinema In realtà È un po' Il padre Di tutta questa Questa cosa qua Nel senso che Lì hanno veramente Sperimentato Con delle cose A mano Che io Cioè quando le guardo Sì E dico Madonna mia Questa è follia È una roba da pazzi Come hanno fatto A fare questa roba qua È impossibile No? Una cosa che mi hai fatto vedere Era Gli sfondi Tipo di Star Wars Che venivano fatti Con dipinti a mano Dipinti a mano Dipinti a mano Su vetro In modo tale Che nelle parti Dove c'è il vetro Dietro c'era il set Vero E doveva coincidere Tutto perfettamente No? Sì E quello era Scenografia Si facevano Queste cose live Quindi si metteva il vetro Veramente davanti al set Oppure si faceva dopo Quindi vetro E poi si proiettava dietro E si univa Con una Ulteriore pellicola No? Sì Quindi post Però era un mondo incredibile Avete appena capito Qual è la differenza Tra un buon insegnante E un ottimo insegnante No vabbè Eh perché Io mi ricordo ancora La funzione di After A cosa serve E perché È in quel modo lì Dal fatto che Tu mi hai fatto vedere Il Il Come funzionava Il compositing Fatto a vetro Quindi io ho capito Che i livelli di After Erano vetri Ok? Sì Sai cos'è? È che Io cerco di far capire No? Alle persone che Tu adesso fai quella cosa Facendo due click No? Sì esatto Ma per arrivare a fare Quella cosa con due click Cioè Ma sai quanta gente è morta? Ma vero eh? Ma no Ma guarda che non sto scherzando eh Cioè se tu guardi Che ne so È anche il mago di Oz 1939 Sì 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 C'è tutta la roba di Compositing Ah ti dico solo che Se non sbaglio La neve Era fatta Con pezzi di Eternit Avete presente Sì Che cos'è l'Eternit Che è cancerogeno Spaccavano i pezzi di Eternit Per fare la neve L'omino di latta L'hanno cambiato A metà film L'hanno dovuto cambiare Perché La vernice Di metallo Che aveva sopra Era cancerogena Sì L'hanno cambiato Perché ha iniziato a stare male Strano Strano E quindi quando parlo Del fatto che Tu per arrivare a fare Quello che hai fatto C'è gente che è morta È vero Non sto scherzando Effettivamente C'è morta dietro Quella roba là Cioè è incredibile O lavorando Oppure per del materiale Nocivo Il materiale che Poi si è scoperto Essere nocivo Oppure Capito che C'era un metodo migliore Ecco Le cose Nascono Perché le fai E poi scopri Che c'è un metodo migliore Chiaro No? Infatti anche quello È un metodo Che utilizzo Cioè io ti dico Fai così Questo esercizio qui E la volta dopo Ti dico Come farlo in un secondo Ok Però do valore Alla seconda puntata Cioè Se io ti ho fatto sudare Per fare una cosa Che potevi fare Con un comandino Tu questo comando Lo prendi come oro colato Cioè Wow Sì Sono riuscito a fare Questa cosa Con due comandi Invece che fare Tutta questa roba qua Esatto Se invece tu Dai subito Il comando Quella cosa lì diventa Inutile Cioè Ah sì Allora si fa così Cioè non è importante Non gli dà importanza Se invece la fai sudare Quella cosa lì diventa Importantissima Chiaro Chiaro Mi ricordo anche Facendo Diciamo Lo stage Da Alca Mi confrontavo Sia con Valerio Che con te Per cinema Io mi ricordo Che cinema Io ho trovato a casa Quando tornavo a casa Io trovavo dei kit di luci E degli studi E dicevo Guarda Valerio Ho trovato No Tu devi costruire la tua luce Costruire il tuo studio Così capisci Dopo Puoi usare i kit È giusto Perché così capisci che È giusto Da dove viene quella roba lì Lo puoi fare tu Sì sì assolutamente E dai molto più valore Ah giustissimo Da lì ho capito un principio Cioè Plug in Per facilitarti la vita Solo dopo che hai capito Come gira Come funzioni Perché sono arrivati a quella cosa lì Sì sì E io ho passato notti No Ma a trovare Cioè a cercare di fare una cosa E poi succede sempre Tu consegni il lavoro E poi esce il tutorial Che ti dice Ah Potevi fare in due secondi Porca misera Cioè magari non mi facevo la notte No Se lo sapevo prima Però quella cosa Mi ha comunque insegnato Che Come si fa quella roba lì E che Che valore ha Questa cosa qua nuova Certo È importantissima No super Super E invece poi Com'è partita l'idea dello studio Di Alcanoides Che tra l'altro Tra l'altro Lo facciamo vedere È pazzesco Da tanti anni A Milano E tante produzioni Sì Vabbè Intanto saluto I miei due soci Manolo e la Raffa Sì sì Salutiamo Conosce molto bene E devo dire che Loro sono Cioè Un po' Il cuore Anche se vuoi Di questa Di questa struttura qui Infatti Infatti Devo dire Che mi trovo Veramente molto bene Con loro Perché Noi siamo in tre No Sì E abbiamo deciso Di aprire questo studio In tre E Ci avevano detto Fin dall'inizio Che tre Era un po' Il numero Perfetto Perfetto Un po' perché Effettivamente Non stai mai Non ti fossilizzi Su una decisione Cioè Quando tu apri uno studio Devi Continuamente Prendere Delle decisioni Però Il fatto di essere in tre Possono succedere Solo cose Che Per la quale Tipo Alla fine Prendi sempre la decisione Perché Perché O due Sono d'accordo E uno no Però Se due sono d'accordo L'altro Divera L'altro dice Magari Se loro sono d'accordo Sicuramente Ci sarà un motivo No In quattro Già due contro due Infatti I numeri dispari Dicono Che per le società Sia Ottimale Oltre al fatto Che Io sono Il designer Manolo Era regista E Montatore Raffaella Era sulla produzione Su producer Quindi noi Avevamo una visione Totalmente Diversa Sullo stesso argomento Magari C'è conflitto Conflitto di interessi Non c'è conflitto di interessi C'era semplicemente Una Cioè Una presa Un modo di vedere le cose Interessante Perché ognuno di noi Ha Una visione diversa Certo Il logo stesso Di Alkanoiz È questo Perché noi abbiamo scelto Un triangolo Chiaro E perché abbiamo scelto Un triangolo Con lati totalmente Differenti Ogni lato Del triangolo È lungo In maniera diversa Proprio perché Cioè noi tre Eravamo Cioè avevamo Tre entità Con un background Totalmente diverso Certo Quindi Qualsiasi decisione Tu prendi Dal Che sedie comprare Che tavolo prendere Che roba fare Eravamo sempre Non sempre d'accordo Però il fatto di essere in tre Per forza No? Certo Quindi non ti fermavi mai Cioè tu Avevi bisogno di una cosa Ah sì è quello Ok Anche se tu magari Non eri d'accordo Però dici Vabbè ma se gli altri due Sono d'accordo Vuol dire che Esatto Hanno ragione loro Esatto Quindi per forza Sì Hai presente quel meme Che fa Esatto La mia testa Adesso Io ho fatto quel meme Dentro la mia testa Tu mi hai raccontato La storia del logo E quindi È interessante Vabbè Questa è un po' La nostra formazione Sì Cioè Secondo me È interessante Perché Alcanoids È multidisciplinare No? Come studio A differenza di altri studi Che invece sono Cioè i capi sono Tutti designer Fanno tutti design Eccetera eccetera Noi abbiamo una visione Anche un po' Molto ampliata Già Rispetto a questo E come è nata Alcanoids Eh Bella domanda Sì 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 Perché tu da Frame Giusto si chiamava Frame by Frame Frame by Frame Sì 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 Che non c'è più No no C'è ancora C'è ancora Voglia se c'è No 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 Pazzesco perché Vabbè Frame by Frame È stata la nostra Sono Sono È la società Che ci ha fatto conoscere A me E Manolo E la Raffa Sì E che ci hanno formato Ok Ci hanno formato Perché Allora io prima Di andare a lavorare Per Frame by Frame Ho fatto il freelance Sì Tra l'altro L'argomento che tu No Cioè Sì Anch'io Anch'io freelance Io ho provato a fare Il freelance E in quel periodo Era molto diverso Però Sì no Era un po' così Mi ritrovavo a fare Dei lavori All'ultimo momento Infilato in team Sempre di corsa Check Ok E non avevo in mano Nessuna parte creativa Perché io arrivavo sempre Per risolvere problemi Ok Sui lavori Non è tanto diverso Da oggi Non lo so Infatti questo me lo devi dire tu Io non so com'è il mondo Dei freelance In questo momento Però E cosa succedeva Che invece La Frame Era l'unica Che mi chiamava E mi diceva C'è da fare questa roba qua La fai tutta tu? Oh Ok Va bene E All'epoca A me non mi capitava Tanto Tanto spesso Di avere Un lavoro Dall'inizio Alla fine Alla fine Loro proprio Mi davano in mano Una sigla Per dire Che figa Ok Io facevo Facevo tutto Mi ricordo Andavo giù a Roma E Recuperavo il materiale Il video Cioè Che ne so Dovevo fare la sigla Per il rugby Mi davano No Il video Del rugby Sulla quale Dovevo fare Magari Le grafiche Le cose E dovevo selezionare I pezzi di video All'epoca Si usavano i beta digitali Che Altro mondo Raccontaci Ok Beta digital Addirittura Su Google Ma qui doveva venire La raffa Perché lei È iniziato In sala macchine Che non esistono Neanche più Le sala macchine E lei ha iniziato lì Per cui Vabbè Secondo me La raffa Te la racconta molto bene I beta digitali Erano l'unico modo Per consegnare un video Perché Non si consegnava su internet Non c'era No O meglio C'era ma Con un modern 56k Tu immagini Tra l'altro All'epoca Tutti gli algoritmi Di compressione Tipo l'MP4 Non c'era Tu i file Dovevi consegnarli In mov Alta risolta Non compresso I file non compressi Io non so se Li avete mai Fatti Ma pesano Lira di Giga e giga Di roba Come facevamo a consegnare i video Li consegnavamo in beta digitali I beta digitali Erano delle cassette Che sono nate parallelamente al VHS Quindi all'epoca c'era il VHS che era commerciale Ti compravi la cassetta col file I beta invece era un altro sistema simile Ma l'unica differenza è che dentro c'era il time code segnato E questo ti permetteva di insertare al frame spaccato Ok Grazie Quindi mentre il VHS è diventato popolare Sì 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 Beta è diventato invece lo standard per i professionisti Quindi era diciamo uno possiamo per essere chiaro Compresso e non compresso Cioè il VHS era più No è diverso No sto cercando di spiegare Entrambi erano Nascono analogici Ok Quindi con pellicola vera analogica Poi i beta switchano e diventano digitali Ok Quindi beta digitali Beta digitali cioè nastro magnetico Ma che non memorizzava veramente i film Ma memorizzava codici digitali Esatto Informazioni digitali Quindi su nastro Vero Informazioni digitali Che poi c'è lì c'è una storia pazzesca dietro ai codici Sì Perché i beta digitali memorizzavano informazioni digitali Con algoritmi di espressioni Cioè tipo X più Y uguale Z Ok Se tu perdi un'informazione Tipo se tu perdi la X Tu puoi ricostruire la X Sì Facendo il calcolo inverso Ok Oddio sì I beta digitali Nascono proprio perché Ti permetteva Anche se perdevi delle informazioni Di ricostruirle Cazzo I lettori beta digitali infatti Avevano all'interno Una serie di algoritmi Che se si rovinava il nastro Venivano ricostruiti Wow Un mondo incredibile quello Sì 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 C'è un altro mondo Beta digitali Cosa facevi? Collegavi il computer alla sala macchina Quindi la sala macchina Si occupava di collegare Il tuo computer Al lettore beta Perché il lettore beta Quello che faceva andare In play, in rack Eccetera eccetera Costava tantissimo Parliamo di migliaia e migliaia di euro E Di solito le società Ne compravano un modello Ok E collegavano i vari computer Al beta digitale Ok E come funziona tuttora I montaggi con Avid Ad esempio Sì Alcuni montaggi con Avid Non so se si usano ancora I beta digitali per Avid No 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 Però recentemente Ho visto dei montatori Montare delle serie Con Avid E c'era la sala Dove c'erano tutti Le schede video Per Avid E i computer Erano tutti collegati Quindi C'è la sala macchina ancora Sì è diverso È diverso Però all'epoca C'erano le sale macchina Perché Allora Le post-produzioni di una volta Nella sala macchina C'erano tutti i computer anche Cioè Tu nella tua postazione Avevi solo monitor Tastiera Mouse Collegati Alla sala macchina Perché il computer Era in sala macchina Ok Quindi tu andavi in sala macchina A accendere il computer Però questo ti parlo di Sì 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 Ok Ok Poi I computer ovviamente Sono diventati quelli che sono Quindi i Mac Blah 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 E quindi quelli Ti ritieni Nella tua postazione Ma Collegavi alla sala macchina Con i beta Quindi per esempio Chi stava in sala macchina Tu lo chiamavi Con l'interfono Ho bisogno di scaricare La sigla Di questo programma qua Da mandare al cliente Ok Quindi loro cosa facevano Ti collegavano Il computer Al beta Basavano il beta Che anche questo Ovviamente è una cosa Che non si fa Basavano Sì Fatelo raccontare Da Manolo e da Rafa Loro l'hanno fatto per una vita Quindi loro lo sanno E voleva dire Fare una traccia Di timeline Di time code Sul beta Ok Cioè mettere giù Perché il beta Te lo danno Tipo vergine Una roba di genere E poi tu invece Imposti Cioè lo basi E quindi Gli Applichi un time code Perché il time code Può partire da 1 00 00 00 2000 Quello che hai Quindi facevi questa cosa qua E poi ci caricavi sopra la roba Quindi Tu sa Parlavi con la sala macchina La sala macchina ti diceva Ok Ho basato il beta Puoi scaricare Colca f***a Ogni volta che mandavi Un beta Al cliente Cioè tu devi Mandarli fisicamente Il beta C'erano i poni Che venivano a ritirare il beta Lo mandavi di là Cioè era impossibile Fare un lavoro Per domani Cioè No nel senso Cioè C'era tutto un processo Da seguire Per Per stare dietro Madonna E tutto questo Ovviamente Nelle varie post produzioni Dove lavoravo io Qua a Milano E poi Frame Frame però All'epoca Mi ricordo Che era proprio La più moderna Cioè loro sono sempre stati Tecnologicamente Quelli più avanti Loro usavano Final Cut Quando ancora tutti usavano Avid No Oppure Anche le loro sale macchine Erano Molto più moderne Ok I computer Loro puntavano già su software Più moderni After Effects Queste cose qua Sì sì Il che non era normale Perché Se tu invece guardavi La post produzione Di una volta È ovvio che tendevano A mantenere macchine Come le Quantel Perché le hanno pagate Un miliardo di lire Cosa faccio? La butto via Butto No La faccio fruttare Finché posso Esatto La Frame invece No Non ha mai avuto Tra viavete le Quantel Ha sempre avuto Macchine più snelle Quindi ha sempre guardato Il futuro È anche interessante Proprio il loro approccio Quindi mi chiamavano E mi dicevano Ah fai la sigla Bellissimo Io facevo la sigla Goduria E quindi erano A un certo punto Hanno aperto la divisione Di Milano E mi hanno detto Che fai? Ti vuoi entrare Fisso da noi? Che faccio? Non vado Certo che vado Quindi entro dentro E sto con loro Sei anni Ok Bello perché Comunque Ho conosciuto Manolo Ho conosciuto la Raffa E entrambi erano lì dentro Per motivi differenti Quindi la Raffa inizia In sala macchine Poi diventa producer E quindi mi dirigeva Come producer Manolo invece Era montatore Quindi Cioè A volte lavoravamo Anche su progetti insieme Perché lui faceva il montaggio E faceva le grafiche Dello stesso programma No? E quindi ci conosciamo lì Poi la Frame Che di base È a Roma Decide di chiudere La divisione di Milano E quindi a quel punto Decidiamo Noi tre Di Cosa facciamo Eh Boh Tu producer Uno montatore Io Motion designer Proviamo Proviamoci E mi ricordo Io ho formato Valerio Quando lui lavorava in Frame Cazzo Cioè Valerio È arrivato da noi Come stagista in Frame Sì 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 Quindi lui ha fatto Il periodo da stagista In Frame Poi credo che abbia fatto Cioè abbia firmato Un contratto Per un anno Quindi ha fatto Anche un anno in Frame L'ultimo anno Con me E quando noi abbiamo aperto L'abbiamo chiamato subito Certo Vale scusa Già che ci sei Già che ci sei Vieni Siamo tutti nella stessa barca Sì L'hai chiamato Quindi Vale c'è Dall'inizio di Alkanoid Sì Da Day Sempre Day one Yes Day one Mitico No Valerio mitico Cioè Tra l'altro Siamo sempre rimasti In contatto Sempre rimasti amici Beh E lui Lui è È un grande Poi Tutte le personalità Che sono entrate E uscite dal nostro studio Insomma Devo dire Devo dire che questa cosa è vera Cioè Dentro Alkanoids Lavorare dentro Alkanoids È sempre stata Ad esempio Nelle volte in cui ci sono stato io È un evento unico Cioè Tu entri È quello che dicevo Nell'altra puntata scorsa Dicevo Tu entri E vedi Stefano Colferai Che Lavora con la plastilina di fianco Poi c'è la cucina Ma è che la storia di Stefano È incredibile Nel senso Mi ricordo Quando lui mi ha scritto La prima mail Dicendomi Ciao Io faccio questa roba qua Può interessare Punto di domanda E io l'ho guardato E dico Wow Fighissima La roba che fa Veramente figa Lui non faceva animazione Però faceva le illustrazioni Con la plastilina Con la plastilina E dicevo Wow Questa è una figata E ho detto Boh Ma ci serve? No Vabbè Però Proviamo a invitarlo lo stesso E gli abbiamo dato Un tavolo Con noi Poi ha riempito Il tavolo di plastilina E ci ha riempito Lo studio di plastilina Sì Quindi a un certo punto L'abbiamo confinato Non so se tu c'eri Quando Sì Dove tu hai Fattolo stage L'abbiamo confinato All'ingresso All'ingresso Poverino Poverino C'aveva i fari Le cose Doveva tirare giù La tapparella E poi c'era gente Che entrava in studio E c'aveva lui Che stava magari Facendo le sue prove Poverino Ma infatti Quando Valerio Mi ha aperto la porta Tra l'altro Ti dico come sono arrivato Come siamo arrivati A conoscerci Ti racconto Che è stata una cosa Un po' pazza Io Apro la porta E vedo Plastilina Dico ma sono Ma dove sono Esatto No E quindi Valerio Dal giorno 1 La cosa L'esperienza Di Alcanoez È Un bellissimo ambiente Perché A parte che c'era Mario Che ora È da un'altra parte Mario che era Un comiconato È un comiconato Beh è ancora Un comiconato È ancora un comiconato Esatto E Personalmente Ma immagino sia stata L'esperienza Di tutti quelli Che ci sono passati Lavorare Con Te Valerio Mario Manolo La Raffa E tutti gli altri Professionisti L'ambiente Che si crea là dentro Cioè Entrare E vedere tutti i poster Di artisti E roba Sembra che non stai lavorando Alcune volte Beh insomma Adesso te lo devono dire I ragazzi Stanno lavorando Non stanno lavorando Però lo so bene Lo so bene Quello che intendi tu Ma Diventa un'esperienza Che ogni creativo Dice Cazzo Sì mi sto facendo Un culo così Però È in un ambiente creativo Circondato Da creativi È quello che abbiamo Cercato di fare Ma Io credo Guarda Io credo Che comunque Chiunque apra Uno studio C'è anche Comunque Cioè i giovani Adesso che vogliono Aprire uno studio Non so Ocular C'è quella voglia Quella volontà Di creare L'ambiente Più figo Così ce l'avevamo Anche noi All'epoca Quindi volevamo Dare questa cosa qua Cioè creare Proprio un gruppo Di lavoro E Cioè è normale Per chi fa questo lavoro Cercare di creare Il miglior ambiente Possibile Immaginabile Una cosa che avevo imparato Durante il periodo Della frame È il fatto che Loro I capi Della frame Erano a Roma Ok E Proprio per questo motivo qua Noi non avevamo Una persona Che ci controllasse Più di tanto Ok Ok Abbiamo imparato Molto bene A gestire Indipendentemente I nostri I nostri lavori No Anche per quello Ci è venuto naturale Quando loro hanno chiuso Vabbè ma Proviamo noi Visto che Ci autogestivamo Comunque avevamo La capacità Però lì Cioè sai cosa Io ho capito anche L'importanza Di Del fatto che questo lavoro Si basa anche su ricerca E sperimentazione No Quindi per me era importantissimo Imparare cose nuove E quando le dovevo imparare Queste cose No Cioè per forza Il lavoro Per forza Fai un progetto E per fare quel progetto Devi studiarti Magari dei tutorial Vedere delle cose nuove O delle ref Eccetera eccetera Il fatto di non avere Dei capi In ufficio Ci dava quella Quella libertà Quindi ho basato Lo studio Non che non ci fossero i capi Perché noi ci siamo sempre Ovviamente Ma sul lasciare La libertà Di fare Quello che vuoi Tra virgolette Cioè se devi fare Anzi L'idea è sempre stata quella Di un po' Cercare di stimolare Le persone Perseverare Nella ricerca Chiaro Nell'imparare cose nuove Vedere lavori Sì Di ispirazione Sì Stimolarli Anche portarli all'off Esatto È anche quella L'idea Di Stimolare I creativi I designer Che sono passati lì Da noi Cioè questo per me Se vuoi È il mio lavoro Di adesso Cioè quella Di cercare Di stimolare Le persone E portarle A vedere cose A studiare A imparare A imparare A volte anche Rinunciando Al lavoro Se vuoi No? Sì Quindi Trovare Difficilissimo Un momento Per dire Ci fermiamo E magari ci impariamo Questa cosa qua Esatto Successo Sì è successo Rarissimo Perché poi dovevi lavorare Per forza Che comunque Quello va fatto Però c'è stato Ci sono stati momenti In cui siamo riusciti A bloccarci Per una settimana E imparare Solo una cosa Chiaro Eh Questo è un aspetto Un aspetto che Poi ti devo dire Il momento Della mia depressione Io sono uscito Dal canale E sono entrato Nell'agenzia di pubblicità Che era tutt'altro Quindi non c'era Spazio per la creatività Non c'era spazio per Ma immagino Che è un po' Il pensiero Di tutti i creativi Della motion O comunque Che vogliono lavorare Con la creatività Cioè si ritrovano In posti Dove ancora La mentalità è vecchia E si pensa Di la produzione Basta E invece questo ragionamento Porta effettivamente Alle conseguenze Di lavori Bellissimi E a dare Al cliente Quello che lui cerca Da un'agenzia Come Alcanoids Quindi Poi Il cliente Va anche stimolato Noi abbiamo sempre cercato Di stimolare clienti Con dei progetti Magari personali Dello studio Magari creando progetti Anche personali Grossi Io ho sempre amato Coinvolgere le persone Perché di natura A me piace Chiamare Le persone Dirgli Wow figata Facciamo questa roba E lì nascono progetti Come Alchemica Poi all'epoca C'era anche Ilanim Dove avevamo fatto Ilanim Ha messo insieme Gente A caso Con una Con una mia logica Più o meno Sì 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 Cercando di fare cose Tra l'altro lì ho conosciuto Giordano Poloni Ah Poloni Poloni scusami Che ho incontrato In un evento Poco tempo fa E oggi abbiamo fissato Una data per il podcast Grande Quindi 30 giugno In live Giordano Sì 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 Lì l'ho conosciuto E nell'evento lì Ho conosciuto Tante altre persone Come Fra Ma dove Al Paciugo Ilanim Al Paciugo Sono andato al Paciugo Sì ma C'ero anch'io C'eri anche tu Sì sì Io sono andato domenica Domenica Anch'io Ah non ci siamo beccati Pomeriggio E io c'ero Non ci siamo beccati Sì sì Ah bello È stato bello Perché ho visto Cioè Sono entrato al Paciugo La cosa che mi ha colpito È stata proprio la volontà di tutti Di rivedersi Dopo tutto questo periodo Qua Quindi di rincontrarsi Cioè È stato un bel momento Infatti non me lo volevo perdere Sì Anche se io arrivavo da Barcellona Ah sì Che la mattina Io ero a Barcellona Abbiamo fatto colazione Abbiamo preso l'aereo Siamo arrivati Siamo arrivati verso Luna E poi io verso le 5 del pomeriggio Sono arrivato al Paciugo Quindi in chiusura Ah ecco Il momento in cui sono andato via io Sì sì Siamo beccati Dai Quando è che c'è Giordano? Giordano c'è il 30 30 giugno Va bene Ma magari passo a rompere le scatole Se vuoi fai da co-host Vengo a rompere le scatole Va bene Facciamo da co-host Sì sì Grande Io mi ricordo ancora che c'era Chiara in studio Sì 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 Noi sentivamo la musica di Chiara Mentre lei si ascoltava la musica in cuffia Esatto Io dopo una settimana ho pensato che sarebbe diventata sorna Lei ascoltava sempre drum and bass no? Sì Sempre Sempre drum and bass E una volta gli ho detto Chiara ma posso ascoltare la tua playlist? Ho fatto una giornata Solo ascoltare in cuffia la drum and bass di Chiara Perché lei aveva la playlist su YouTube Sì Quindi insomma c'erano 100 pezzi di drum and bass Ma i pezzi di drum and bass durano anche un'ora l'uno C'è una roba del genere E quindi avevo musica fino all'infinito E la cosa assurda era che c'erano drum and bass E poi a un certo punto in nirvana Lei ascoltava solo o drum and bass o in nirvana Una roba del genere basta No no cioè Chris il mood è questo Tu entravi in studio e vedevi Stefano O comunque il suo tavolo vuoto pieno di plastilina Arrivavi Chiara magari arrivava presto eccetera Tutti si prendevano il caffè E Chiara l'avevi sul tavolo con la musica che sentiva E lei batteva i piedi Sì sì Però era interessante perché almeno da quello che mi aveva detto Tipo la drum and bass ti porta il tuo battito cardiaco a un livello Infatti lo vedevi che lei era bella agitata Bella agitata Perché proprio adesso dovresti chiedere a lei Perché io ovviamente non sono un amante della drum and bass Però ti portava il livello dei battiti del cuore a quel livello lì E quindi ti stimolava Che storia Tantissimo Sì sì Lei credo che lo usasse proprio per stimolarsi Vabbè lei lo ascoltava perché gli piace Non è che Sì 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 Però ti fa anche questa cosa qua Chiara anche lei è stata di grande aiuto dentro il mio percorso lì Abbiamo fatto un sacco di robe con Chiara Sì 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 Poi c'è stato Fabio Fabio Valesini Tra l'altro c'era il pacciugo C'era il pacciugo Io l'ho beccato E lui abita a Barcellona tra l'altro Ah sì Perché noi siamo andati a Barcellona e gli abbiamo detto Dai Fabio ci becchiamo a Barcellona tu abiti lì E lui fa cazzo ma quella settimana lì Sono a Milano Io sono a Milano Cioè torno in Italia Ma come è possibile E invece vai tornando poi al pacciugo Io non lo sapevo Appartemente ero sopra Stavolta stavo parlando con Giordano Sì Arriva Fabio un altro ragazzo che conosceva Fabio Cioè in senso un amico in comune E mi fa Oh ma sai che c'è Fabio? Valesini è giù? Ho detto cazzo ma veramente? Allora sono andato giù a salutarlo subito Cazzo se sapevo vedi E quindi era un ambiente mega creativo Tra l'altro mi ricordo che Ilanim e altri eventi che facevate Li facevate in studio Poi vi siete spostati fuori Quindi c'è sempre stata l'idea di essere creativi E lasciarli liberi di creare O comunque fare progetti personali Sì anche perché c'è il mio Il mio metodo è quello di dare Perché allora Io di mio Progetto personale mio Ho fatto uno in tutta la mia vita Uno Non sono mai riuscito Cioè ne ho iniziati mille Uno l'ho finito Cazzo Fine basta Cioè pubblicato Finito Tra l'altro è la prima logo animation di Alkanoids La primissima cosa di Alkanoids Con il ragno? Sì Ok me la ricordo molto bene Non sono mai riuscito a fare nient'altro Davvero? Ti giuro Perché io ho quel blocco lì Cioè non ho una deadline Posso andare avanti all'infinito Queste cose qua Per cui con il fatto che So che molte persone sono bloccate dal fatto che non c'è una deadline Che non c'è un progetto Anche perché noi siamo designer Non siamo artisti E quindi noi dobbiamo avere di base un brief E poi portare avanti quello Per cui So che molte persone sono bloccate da questa cosa qua Per cui ho sempre pensato di creare dei progetti Che in qualche modo ti dessero quella cosa lì Cioè ti do un brief E ti do una deadline Esatto Quindi tu sei stimolato a risolvere il brief A sviluppare il brief in un modo E poi hai anche una deadline Sì Quindi hai una consegna Così lo porti a termine Esatto Quindi progetti come non so Alchemica No? Dove mettevo insieme un illustratore Un animatore Sì O progetti come Discover Discover, sì Che tra l'altro ho partecipato E tu hai partecipato due volte Due volte Ben due volte Probabilmente anche una terza Sì? Come vuoi Perché no? Sì, sì Noi adesso stiamo cercando Cioè festeggeremo il centesimo album di Discover Il centesimo album Sì, sì Il centesimo album animato Quindi Oggi abbiamo postato il novantacinquesimo Ok Lo stiamo facendo vedere, vero Chris? Sì Sì Quello lì sopra Sì Questo Guardalo Vediamolo Che figo Tutto la passona Sì Chi l'ha fatto questo? Leonardo Ruiz Leonardo Ruiz Forse lo conosci? Lo conosco, sì È stato uno dei primi a contattarmi su Instagram Ora non so se è la stessa persona Ma uno dei primi a contattarmi su Instagram Per il podcast Cioè lui si è interessato Non so se è lui Devo un attimo orientarmi Però Però molto bello Molto molto bello E quella è la novantacinquesima cover Quindi fra Quindi cinque settimane Perché io ne pubblico una alla settimana Dovremmo arrivare alla centesima Ok E Discover è un progetto È un progetto di realtà aumentata Giusto? Sì Spieghiamolo così Per chi non lo sa Sì Allora noi negli anni Cioè abbiamo Ci siamo affacciati al mondo della realtà aumentata Che è un mondo molto interessante Cioè almeno L'abbiamo affrontata a modo nostro La realtà aumentata Perché per noi L'importante di queste tecnologie Non è tanto la tecnologia in sé Ma è il contenuto Che sta all'interno di questa tecnologia Ti faccio un esempio Quando internet è nato I primi siti su internet sono nati E erano orrendi Cioè le prime pagine web Erano veramente orrende Poi si è capito che il contenuto Era molto importante Anche proprio a livello estetico Era importante E noi vedevamo esempi Di realtà aumentata Un po' inutili Cioè capito Noi vedevamo delle robe trash Sì Sì Brutte Che non avevano senso Gli alieni che badano Non so Sì Ne avevamo visto uno Con un mitra Che usciva dal petto Perché? Oppure Il classico La tazza di caffè Appoggiata sul tavolo E che dici Sì ma cosa mi serve? Ok E quindi E quindi Cioè abbiamo sempre trovato Questa tecnologia Almeno Io, Manolo e la Raffa Molto interessante Perché uno ci permetteva Di uscire da uno schermo Sì Cioè invece di poter lavorare Solamente All'interno di uno schermo Io ci ho lavorato Per vent'anni Dentro uno schermo Chiaro A un certo punto Han detto Eh sai che c'è Puoi animare un poster Ah Com'è animare un poster No? Puoi animare Non so La copertina di un libro Sì Puoi animare La copertina di un vinile No? Quindi È tutto ovviamente collegato È tutta una sperimentazione Cioè quello che abbiamo fatto È sperimentare Sì Abbiamo fatto alchemica Come primo progetto Di realtà aumentata Ma poi abbiamo fatto Anche gli skateboard animati Gli skateboard animati Bellissimi Skateboard animati I poster animati E poi abbiamo detto Ma sai che c'è I vinili Potrebbe essere Una roba interessante Sì Facciamo Proviamo E lì in realtà Ho contattato Vabbè Noi internamente Dello studio Ma anche Susanna Basone Sì Che Che ci ha dato una mano Nella prima fase Di discover A Proprio Ideare il progetto No? Quindi abbiamo deciso insieme Con Marco Meloni E anche l'altro ragazzo Che lavorava da me Come Come approcciare I vari designer Quali erano le regole Quali erano Il brief Diciamo Che ti davo Infatti C'è la style guide C'è la guideline Che devi seguire Con tutte le regole Eccetera eccetera Per poter Partecipare Al progetto E Devo dire Che è stato Un escalation Cioè Piano piano Tutti quanti Hanno iniziato A fare le cover Tu Sì Poi adesso Tipo a Barcellona Abbiamo beccato Lobster studio Lobster Bellissimo Ne hanno fatte Quattro di cover Loro Sì Si 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 sono dati da fare Ma loro Ogni tanto mi scrivono Scusa Possiamo Possiamo fare un'altra cover Va bene Cioè Sapete come funziona Quale volete fare Queste qua Oppure questa Ok vabbè Fai questa Si 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 Una roba fighissima Eravamo a Barcellona Io Manolo e la Raffa Eravamo seduti a un tavolo Siamo prendendo un caffè Pausa Dall'evento Vediamo un ragazzo passare Con la maglietta di discover Che storia Cioè lo guardiamo Oh ma tu Lo fermiamo Era un ragazzo tedesco Che aveva partecipato a discover Che storia Cioè Non l'aveva mai visto Come cazzo l'aveva avuto la maglietta Scusa Perché è stata l'unica persona Che ha visto In una stories nostra Di discover Che avevamo fatto la mostra Nel nostro studio Sì Sotto Dove erano appese Le magliette di discover Ma erano Cioè Avevamo fatto una story Facendo così no Sì E lui ci ha scritto una mail Ciao io ho partecipato a discover Posso avere una maglietta di discover Ho detto Certo Figurati no Quindi gli abbiamo spedito la maglietta In Germania Ok Lui quel giorno lì Era lì a Barcellona Con una maglietta di discover Senza nessuna Idea Che noi eravamo lì Cioè È stata un'emozione Perché tu Cioè capito Immagini Noi eravamo lì Oh raga Ma quello c'è la maglietta di discover Ma come è possibile sta cosa E' fantastico Quindi è stato veramente un incontro Una grande soddisfazione Una grande soddisfazione No Cioè Beccare all'estero Un'altra persona Che viene dalla Germania Che si è messo una maglietta Per caso E Infatti Ha detto Ah no Anche io adesso sto pensando Un'altra cover Va bene Come vuoi No Discover è un progetto Veramente bellissimo Che ti devo dire la verità Quando parlo con dei clienti Io li faccio vedere Li faccio vedere Il progetto che ho fatto Perché Secondo me è una cosa anche Che propongo per Per lavoro Cioè cavolo Tu puoi fare L'animazione La puoi Disporre In diversi Con diversi elementi E anche La realtà aumentata Certo Allora Sulla realtà aumentata Ovviamente Siamo ancora In una fase Limitatissima Cioè Secondo me Questa cosa qua Il cellulare È una cosa limitata Ciò non toglie Che ovviamente Il futuro potrebbe essere Invece molto più interessante Se superiamo La barriera del cellulare Esatto Esatto Perché ad esempio Io come lavoro Come motion designer Sto pensando La mia carriera O comunque Il mio lavoro Verso la realtà aumentata Cioè io voglio Lavorare In specifico Con la realtà aumentata Quindi pensare Diversi modi E seguire La tecnologia Che poi Ci sarà Perché secondo me Su questa cosa qua Della realtà aumentata Manolo È la persona giusta Sì Cioè Io la vedo Ovviamente A livello di contenutistica E di motion design Manolo invece Sta proprio seguendo Il progetto di Aria Perché no Aria è la nostra Piattaforma Di realtà aumentata Ok Aria è un braccio Di Alcanoids No è una start up Ok È una start up Che abbiamo sempre Aperto noi Ok Ma che principalmente È Manolo Che si sta Occupando Di questa cosa qua E che Diciamo un po' Sono interconnesse Certo Perché comunque Per ora Ecco una cosa Che Che dico spesso È che Si genereranno In futuro Dei lavori Che in questo momento Non esistono Certo Legati alla realtà aumentata E la motion design Potrebbe essere Quella che Comunque Utilizza bene La realtà aumentata Sì Perché comunque Stiamo parlando Di grafica animata Sì Di tutto quello Che potrebbe rientrare All'interno Con anche Poi in futuro Tutte le robe in 3D E comunque La motion design È abbastanza preparata Anche sulla parte 3D Certo E quindi Questo aggancio Tra motion design E realtà aumentata È sicuramente Una cosa da seguire Sì Poi io non sono Un esperto Di tecnologie Future Sono un appassionato Sono un curioso Per cui Non ti so dire Effettivamente Cosa succederà Però Se devo guardare Al passato Ci sono state Delle persone Super illuminate Che invece Hanno previsto Determinate cose No Se guardi il film Quello su Steve Jobs Come si chiama Steve Jobs Jobs forse Sì Ma ne hanno fatti tanti Quello di Con Fassbender Chris Ne sai qualcosa Sì Praticamente La storia di Steve Jobs Sì Ma Tralasciando il film Il film inizia Con un'intervista Vera Dello scrittore Di 2001 Di Sia nello spazio Lo scrittore Sì Di 2001 E lui In questa intervista È In un laboratorio Di computer Con i computer Avete presente Quelli Con La parete E le robe di questo E c'è lui Che c'è un giornalista Che lo intervista E gli dice Ma quindi il futuro Sono i personal computer Cioè i computer Entreranno nelle case Delle persone Un po' scettico Come domanda Sì E lui dice Sicuramente In futuro sarà così Questi computer qua Giganteschi Cioè prima o poi Verranno rimpiccioliti E staranno nelle case Delle persone E c'è il giornalista Che dice Sì ma a cosa servono No? Sì 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 Cioè se ci pensi Era giusta la domanda Perché all'epoca Non riuscivano a vedere Oltre a quello Che poteva servire Un computer Perché all'epoca Il computer lo usava La NASA Per fare i calcoli Certo Di dove cazzo Dovevano atterrare Sulla luna E uno dice Io cosa me ne faccio Lì un computer Che mi calcola Dove cazzo atterrare Sulla luna Non devo andare Sulla luna No? E lui diceva tipo No ma col computer Puoi fare tutto Anche fare la spesa Cioè Ti immagino Quanto cazzo Il giornalista No? Si sarà messo a ridere Perché avrà detto Ma che cazzo Stai a dire Cioè Con un computer Ma che ci faccio Con quella roba lì E la stessa cosa Per esempio Quando è uscito L'iPhone Cioè Il cellulare Che faceva le chiamate E basta C'era già No? Chiaro E c'era anche Il cellulare Con internet Si E infatti Cioè Steve Jobs Ha puntato Su questa cosa qua Proprio perché Era connessa No? Ma anche lì Le critiche Sono arrivate Perché gli hanno detto Ma a noi Cosa serve Un cellulare Che È anche smart Cioè Può Anche con Cioè Io non ne faccio niente Tanto ho il mio portatile Ho il mio computer a casa Se devo fare le cose Le faccio su questo E non No? E tutti ovviamente Per esempio Una tecnologia Molto Discussa in questo periodo È sicuramente Il 5G Il 5G Perché uno dice Sì ma a me è il 5G Cosa me ne faccio io Del 5G? Perché a me Mi basta il 4G Cioè Navigo Faccio le robe Però tu immagina questa cosa Se io ho una connessione Potentissima Magari il mio cellulare Non ha bisogno neanche Di avere Processore Esattamente Perché il processore È online Esatto Perché la connessione è super veloce E quindi cosa succede? Che il mio cellulare Non ha un processore interno La batteria può durare Molto di più E ha molto più spazio Le cose si riducono Le cose si riducono ulteriormente Forse non ho bisogno Neanche di una scheda video interna Perché il calcolo Lo può fare online Ma per fare questo Devi avere una connessione Non veloce Di più Di più Ok Una volta superato questo Tu puoi avere Un oggetto Che Alimentato Quasi all'infinito E con una dimensione Piccolissima E qui entrano in gioco Gli occhialini In realtà aumentata Eh sì Capito? Dove in questo momento Qual è il problema Degli occhialini Che sono grossi Non sono occhialini Non sono occhialini Non sono occhialini Sono grossi Sono pesanti No? Ed è una cosa Che non può Uscire in questo modo Per il grande pubblico Chiaro Ok Però ci sono tutta una serie Di tecnologie Che devi affrontare E che ti portano A quella cosa lì Ok? E non è solamente Inventare l'occhialino Perché se io invento L'occhialino Ma poi dopo Non ho la connessione 5G Che mi permette Sì sì Di avere Quei risultati lì Non mi serve niente Quindi Quindi tu dici Che per ora Siamo limitati A una visione Sì Quello che mi interessa È Vedere Come Cioè quello che ci sarà dopo Non limitarmi A dire Se mi basta Quello che c'è adesso Esatto Mi basta Questa cosa qua Cioè vedere Oltre Esatto Alle possibilità Che ti si aprono Anche con tecnologie Che magari non servono Proprio a quello Perché nessuno fa Il collegamento Realtà aumentata 5G Eppure Eppure C'è una grandissima connessione Tra le due cose Quindi è un mondo Interessante Sono curiosissimo Di vedere come Andrà Sì 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 No a questo E Beh si ricollega un po' A tutto il discorso Ormai siamo da Da tanto tempo Che siamo chiacchierando Infatti Ah scusate No 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 Volevo dire che Adesso capisci Manolo una volta ha detto Eh ma siete lunghini Però capisci che Quando inizi a parlare Cioè È molto bello È molto bello Questa cosa qua Vedete voi Magari tagliate qualcosa Assolutamente A me piace così Non si taglia Io se mi dovessi ascoltare Io non mi ascolterò sicuramente Ma dai No 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 Chiunque Chiunque fa Adesso Chiunque fa motion design Chiunque lavora con la creatività Deve Vedere Chiaramente se la stai vedendo Fino ad adesso Deve continuare a vedere Questa puntata E La deve consigliare Perché Secondo me Sì poi abbiamo un po' divagato Abbiamo un po' divagato Ma ci sta Ci sta Alla fine Alla fine è una chiacchierata Più che un intervista No Sì sì È una chiacchierata E La cosa La cosa bella A parte poi L'aspetto Personale Che Lo devo dire Perché È il momento giusto La cosa bella è che Alcanoides O comunque Tu con i soci La Raffa E Manolo Esprimete Quello che secondo me Doveva essere Un'agenzia O comunque Un'agenzia Di creativa Ok Di produzione creativa Grazie No 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 Perché Davvero Lasciare libertà A chi è creativo Di fare Dentro le linee guida Dentro Dentro il progetto Dentro il brief E poi L'aspetto Umano Che è molto importante Che sapete Secondo me Gestirlo Molto Molto Bene Le cose si fanno Si ha un Un tempo Per finirle Ma c'è anche Il momento Per Conoscersi bene Parlare Divagare Andare all'off Fare cineforum Fare cineforum Sono state Una mia Fissa Fin da piccolo Volevo sempre Fare questi cineforum Perché io sono appassionato Di film Sì Inizialmente sono Sono appassionato Di film Anche di quelli brutti Anche di quelli brutti Ma di tutto No qualsiasi cosa In realtà Mi appassiona Sia Tecnico Sia di racconto Artistico Ma anche Per esempio Di Di business Sì Perché alla fine Il cinema Il cinema È business Capire l'industria Certo Cioè quando scopro Che Che ne so The Rock Solamente perché C'è il suo nome In un film Vuol dire che Lui porterà Cento milioni Di incasso Esatto No per me È interessante Cioè per me È interessante Quindi vado a vedermi Tutti i film di The Rock Perché The Rock Porta cento milioni Quando viene ingaggiato Per un film Perché Tom Cruise Anche lui Cos'è Ottanta milioni Novanta milioni No E poi fai un film Come Con The Rock Calga Goat E Ryan Goat No come si chiama L'altro Il film L'ultimo Che hanno fatto Su Netflix Il film più costoso Di Netflix Quello Jumanji No Non Jumanji È una roba Sempre di No di intrighi Politiche Intrighi Insomma cose divertenti Insomma Film Però perché portano Perché loro ingaggiano Questi tre E spendono Duecento milioni Per realizzare Questo film qua Perché c'è un ritorno Chiaro E quindi c'è un'industria Dietro Questo è Per me Comunque È super interessante No No Questo anche Ci sono Tante cose Su cui Parlare insieme Perché I cineform Sono stati anche per me Il momento di Vedere un po' I pareri Degli altri Ma anche di Entrare nel mood Degli arti professionisti Che in quel momento Io ero Stavo iniziando C'era Fabio C'era Valerio C'era Mario Io dicevo Cazzo Che figata Cioè che figata Come la pensano loro Come si divertono E poi Come lavorano Lavorano stra bene Cioè Lavorano Guarda Questa cosa qua Del cinema Io ho sempre avuta Ma mi ricorderò Sempre la persona Che era Il mio primo capo Quello Insieme alla ragazza Che ho conosciuto in montagna Ok Loro erano due soci L'altro era un regista Di videoclip E mi ricordo I pranzi Che facevamo insieme Lui e I suoi amici registi I loro discorsi Erano sempre tipo Ah sì Io Spielberg Ho visto Il 90% Della filmografia Di Spielberg Sti cazzo Oppure che ne so Ah no sì Dario Argento Sì sì Dario Argento 100% Io dicevo Cavolo Questi capito Fanno le sfide A chi ha guardato di più I film Di quel regista Di quest'altro regista Quindi io tornavo a casa Da passiamo Andavo a recuperarmi Tutti i film Mi guardavo Centinaia Di film Mi sono fatto un periodo E mi guardavo Quattro film Al giorno Una roba del genere Perché Perché volevo capire E a volte guardavo Anche di film Che non Non capivo Certo Che ne so Tu guardi Otto e mezzo Di Fellini E dici Che cos'è questa roba No? Sì Cioè E poi dopo magari Scopri questo Scopri quest'altro Facile parlare Di Otto e mezzo Facile parlare 2001 Di Siamo nello spazio Però Sono film Che comunque Io li ho guardati Anche magari Da giovanissimo Senza capirli E poi a un certo punto Mi dicevano Ah sai che E qui Anche perché io frequentavo Andavo allo Yulm Sì Io non ho mai fatto L'università Non sono Non ho lauree Però Entravo di nascosto Entravo di nascosto Per seguire Le lezioni di cinema Questa cosa Mi mancava Sì sì Durante il periodo Penso che lo farò anch'io Ma è super figo Io seguivo Storie del cinema E analisi cinematografica Ed erano tre professori diversi Uno ovviamente È il direttore Di Sky Cinema Classic Che lui Vabbè Lui è stato quello Che mi ha aperto Cioè la mente Nel senso Sì sì Le sue lezioni di storia del cinema Cioè Non me le scorderò mai Cioè l'imbucato Che hai imparato più di tutti Chris Cioè te lo immagini Ma io ti assicuro Che le sue lezioni Erano talmente famose Quell'epoca Che più della metà della classe Non era Iscritto al corso No Lui teneva delle lezioni E secondo me Più della metà Perché io avevo l'insider Perché c'era una mia Ex compagna delle superiori Che si era iscritta Allo Yulm Sì Quindi mi chiamava E mi diceva Otai devi venire Perché c'è No la lezione Sì E parleranno di questo Oppure ha invitato Questa persona qua Sì Lui ha invitato Vittorio Storaro Ha invitato Vittorio Storaro È un Per chi non lo conosce È uno dei più grandi Direttori della fotografia Cinematografici Apocalypse Now Sì sì Ha fatto Apocalypse Now Tanto per intenderci Wow E Cioè lui Per esempio Quando ha parlato di Apocalypse Now Ci viene un ibridi Perché Cioè lui è andato da Coppola Con un libro Di fumetti Sì Dicendoli Io voglio fare la fotografia così Capito? Cioè Porca troia E lui raccontava la storia di Coppola Che diceva tipo Ma io non capisco no? E quindi diceva Vedi Cioè io voglio creare dei layer Il primo soggetto è scuro Poi colore e luce Scuro Colore Luce E voglio creare profondità Attraverso Ombre Ombre e luce Infatti Lui in quel periodo Promuoveva i suoi libri Lui ha scritto due libri Uno è Cioè i due libri Sono scrivere con la luce In cui il primo volume È ombre e luci E secondo è il colore E infatti Questa è Fa parte anche delle mie lezioni Di After Sì Quindi Ombre e luci E colore Infatti Se guardi Che ne so Anche L'ultimo imperatore Di Bertolucci È sempre sua La fotografia Ogni periodo Dell'imperatore Cioè da bambino Fino a vecchio La fotografia È Ha un colore Predominante In base al periodo Dell'imperatore Quando lui è piccolo La luce è gialla Arancione Piano piano diventa Blu Quando esce Dalla Dalla casa E poi da vecchio È verde Se guardi i vari periodi Del film E poi la cosa bella Che il film è montato Invece è un po' Avanti e indietro Ok Quindi ti ritrovi Con dei fotogrammi Particolarmente gialli Con dei fotogrammi Verdi Scuri Ok Fotogrammi blu Ma luce è proprio blu Quasi ad evidenziare Quei momenti E quindi Sì sì Lui infatti Scriveva Con la luce E col colore Senti dai Noi siamo Cioè ha capito Altro mondo Noi siamo Due appassionati Di cinema No Io per l'aspetto Più fotografico Colori Eccetera E anche Di design Perché Tengo molto d'occhio La parte di design E lui E anche lui Per la parte Di visual effects Eccetera Sceneggiatura Sceneggiatura Sì 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 Certo Facciamo un altro cineforum Perché Voglio far vedere a Chris Com'è l'ambiente Di Comunque Te che dirigi Tutta la parte Di cineforum Che porti il film Secondo me Chris Ti piacerebbe tantissimo Eh guarda I cineforum Nascono Anche qui c'è la storia Nascono proprio nel periodo Della Nouvelle Vague Perché durante il periodo Della Nouvelle Vague Voi considerate che Stiamo parlando degli anni 50 Fine anni 50 Non c'era televisione Chiaro Quindi Se tu volevi vedere un film One shot Andavi al cinema Lo vedevi una volta Fine Fine Quindi I cinema de sé Nati in Francia Durante il periodo Della Nouvelle Vague Era perché I critici cinematografici Dovevano rivedere il film Sì Dovevano scrivere un pezzo Su quel film Quindi Riproiettavano le cose Quindi loro Organizzavano dei cineforum Per rivedere il film Ed era l'unica occasione Non c'era televisione Sì All'epoca No E quindi Infatti Il film di Bertolucci Su The Dreamers Racconta proprio di quel periodo lì Dove la gente Andava lì E voleva sedersi In prima fila Perché Eri il primo A ricevere l'immagine Eri davanti a tutti Quindi Quando vedevi L'immagine dello schermo Era la prima Eri davanti a tutti Eri il primo A ricevere l'immagine Del film Lì Si è costruita La critica Cinematografica Vera e propria Lì si è creato Tutto il mondo Moderno Del cinema Con Perché lì Si formano I critici Cinematografici Che Massacrano Tutti i film Di quel periodo lì No E iniziano a farli E iniziano a farli Quindi registi Come Truffaut Godard Eccetera eccetera Prima Scrivevano E sono diventati Giornalisti Critici Cinematografici Sotto la direzione Di Bazin E poi Cioè Diventano Registi Perché Stufi Di vedere Sempre Le cose Fate dai vecchi Chiaro Loro erano La nouvelle vague La nuova onda La nuova generazione Di registi Sì Ed è stata La primissima Generazione Di registi Che ha potuto Rivedere i film Per analizzarli Perché se tu ci pensi Prima di questo I registi Diventavano registi Perché Facevi L'assistente Dell'assistente La regina E il film Li vedevi Dall'interno Li vedevi Dalla produzione Quindi da Assistente Dell'assistente Dell'assistente Sfigato Diventavi magari L'assistente E poi dopo Diventavi regista Loro invece Il cinema Sono la prima Generazione Che lo studia Che guarda Il film E dice Questa scena Non mi piace Non mi coinvolge Non mi funziona E lo vedono Da pubblico Chiaro Quindi la loro Visione del film È totalmente innovativa Infatti Il periodo Dalla nouvelle vague È Cioè Proprio Cioè Il cinema prima Dalla nouvelle vague E il cinema dopo La nouvelle vague Quello è un periodo Importantissimo Sì E l'hanno fatto loro Anche la politica Dell'autore Che l'hanno scritta loro Cioè Chi è Che ha fatto il film Perché prima Dalla nouvelle vague Il nome più grande Era Poteva essere Il produttore Come L'attore Sì No Non era il regista Spesso il regista Si cambiava Sì Il mago di Oz L'hanno cambiato Cleopatra L'hanno cambiato Non so Quattro registi Hanno cambiato Sì Ok Cioè il regista Era una figura Che si poteva cambiare Ok Non era l'autore Ok Truffo Goddard E tutti gli altri Si domandano Ma chi è Che firma Il film Sì E lo decidono loro E sai chi prendono Come esempio Hitchcock Hitchcock Perché Perché loro dicono Hitchcock Un vero autore Non ha mai scritto Non ha mai scritto Una storia Dei suoi film Non ha Cioè Capito Lui non l'ha mai scritta Perché il dibattito era Però il regista Non scrive la storia Quindi non puoi essere l'autore No Ho detto Il suo vero autore Il vero regista Ma loro dicono L'autore del film È il regista Perché Se io questa storia La do in mano a Hitchcock O la do in mano A un altro regista I due Mi faranno due film Totalmente diversi Quindi se la fa Hitchcock È il suo Il film Perché lui Metterà la sua Impronta Sì E lo farà come vorrà lui Col suo modo di fare film Con i suoi effetti divertivi Sì Con i suoi effetti divertivi Esatto Effetti divertivi Beh cazzo Lui ha inventato delle cose Incredibili Cioè E quindi Loro prendono come modello Hitchcock Proprio perché Hitchcock Non è Non è considerato Un regista D'autore Come all'epoca Non so Fellini Che comunque Si scriveva le sue storie Si faceva le sue cose Era un regista Regista Che faceva film Di trattenimento Ma che però Per loro era Un autore Infatti è famosissimo Il libro Scritto da Truffaut Che intervista Hitchcock Quello è Uno dei libri Fondamentali Perché studia cinema E quello va letto tutto Cioè Quello te lo devi leggere Tutto per forza Sì Vabbè ragazzi Mi sto annoiando Con delle robe Che non c'entrano niente No Io immagino Chris Che adesso sta studiando E io Da Continuo a interessarmi A questo tipo di cose Sto facendo una lezione Una lezione intera Sul cinema Sul cinema Sulla motion Cioè Il cinema è Un'arte Molto Moderna Molto contemporanea Perché Non c'è il concetto Di artista Da solo Che si fa le cose Cioè Lì devi Devi ragionare Con un team Con un team intero Molto grande Con tantissimi reparti E quindi devi Cioè È bellissima Come cosa Cioè È veramente Quello che ci caratterizza Come persone Cioè Il cinema Non Cioè È molto È diverso Proprio da tutto il resto Sì Detto questo È aver parlato Di questa cosa qui Di Avere questa visione Sul cinema Come lo vedi oggi Il cinema Che viene Completamente Come posso dire Commercializzato Però L'aspetto commerciale Del cinema Come ti dicevo È un aspetto Che a me interessa Chiaro Chiaro Però Oggi con Netflix Prime C'è una corsa Che Continuano a produrre Roba Roba Senza Senza Non lo so Tu dici che non hanno qualità Non c'è qualità Ok Ma questo però Riguarda tutti i periodi Del cinema Ok Cioè Ti faccio un esempio Quando È nato Il cinema Sonoro Ok I registi Che erano nati Nel periodo del muto E ti parlo di Hitchcock Sì Hitchcock era contrario Al sonoro Per esempio Ah ok Il sonoro però Ha fatto uscire Una quantità di film Brutti Ma Bruzzi Sì Capito Perché Perché Quando è nato il sonoro Tutti hanno detto Cavolo Finalmente Possiamo spiegare Una storia No In mani Cioè Con un Cioè che si capisce Sì Perché prima del sonoro Tu per spiegare Che quella persona Era gelosa Dovevi O mettere il cartello Questa persona Stava guardando In maniera gelosa Oppure Era impossibile Cioè dovevi Ragionare Con la pantomima Che è quella Tecnica recitativa Molto forzata Dove Facevi i gesti Quelle cose lì Quindi Quando nasce L'audio Escono fuori Una marea di film Orribili Orribili Solo perché Inquadravano Tu parlavi Potevi spiegare La storia Inquadravano te No? Sì Parlava lui Inquadravano lui Poi a un certo punto I registi furbi Hanno detto Ma se parla lui E io riprendo te Perché la tua reazione È più interessante E sento la voce sua Che cosa succede? Capito? Sì Quindi esce una tecnica Che butta fuori Una marea di cose brutte Ma a un certo punto Dicono Cazzo però Questa tecnica Mi permette di fare Delle scelte Molto più interessanti No? Quindi ogni volta Che c'è una rivoluzione Purtroppo c'è Questa cosa qua Del buttare fuori La roba Perché Cavolo Abbiamo scoperto L'audio Bene Allora Facciamo centomila film Così Oppure il colore Abbiamo scoperto Le pellicole a colore Facciamo duecentomila film Con le pellicole a colore E poi magari Non avevano senso Sì È solo sperimentazione Perché è una cosa nuova Giocavano sul fatto Che Il pubblico Lo attraevano con quello Ah questo film è a colori Vieni a vederlo Poi lo guarda via Era una merda di film Ma è normale Quindi Per fare un esempio Bruttissimo Di tipo Tecnologia Che c'è Tra l'altro Di mettere in scena Le carte produttrice L'ultima Proprio Il punto bruttissimo È stato Dragon Ball Evolution Dragon Ball Evolution No 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 Ok No 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 Sì 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 Hanno Hanno usato All'estremo La tecnologia Sì Show Show Sì Ma anche per esempio Il cinema in 3D Gli schermi in 3D Con gli occhialini Dove magari film che esce solo perché è quello che ti tira il coltello addosso E c'è l'effetto che ti arriva Tutto il film ruotava intorno a questa roba E tu dici Ma perché c'è No Eppure magari è un film che è uscito È costato niente E ha tratto pubblico Perché c'era una tecnologia nuova dietro Chiaro Però questa poi ha creato una serie di Magari di sperimentazioni interessanti Poi 3D in realtà è morto Ma vabbè lì è un caso un po' particolare Sì 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 Eh l'unico film che è uscito in 3D Che è stato spettacolare è Avatar Sì Che lo sta facendo Fa con comodo eh Devo dire che Cos'è? 15 anni Sì Devo dire che sta facendo veramente con comodo È uscito l'altro giorno il trailer Sì sì Spillage sta facendo veramente con comodo E ha fatto con comodo No tra l'altro Guardavo È uscito una puntata di Slim Dog Non so se li seguite Slim Dog Ok Su come il primo film che ha fatto James Cameron Vabbè quello è interessante Sì 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 Super interessante No è James Cameron tra l'altro Ha fatto anche il record mondiale Mondiale del mondo di immersione E roba sincera Sì O era Spielberg non mi ricordo No no è lui perché lui è appassionato di immersioni Ah esatto Infatti Titanic Sai che lui è andato veramente a Titanic Sì 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 Lui è andato giù proprio a vederlo in Titanic Sì sì no lo so Davvero E quindi tu pensi che questo momento di Netflix sia un momento di transizione dei film Sì Cioè è un nuovo modo di far uscire un film che non è quello di andare al cinema Sì Allora buttiamo fuori Vediamo come viene Esatto Cioè in realtà per una cosa buona dietro ci sono 200.000 film che fanno cacare Chiaro Cioè tu adesso magari parli che ne so di Sergio Leone Ok? Quel periodo lì di Sergio Leone Lui ha fatto veramente dei capolavori No? Sì Ma tu sai che in quegli anni lì uscivano 100 film western italiani Sì All'anno Sì 100 Più di 100 film Sì E quelle robe lì erano brutte Sì Però andavano perché? Perché andava di moda e Sergio Leone aveva fatto dei capolavori Allora tutti a fare western all'italiana Chiaro Non se ne ricorda nessuno quei film Sì Una cosa che mi viene in mente sulla tecnologia Che è utilizzabile adesso con Netflix Hanno fatto uscire Black Mirror ha fatto uscire O i leggisti di Black Mirror hanno fatto uscire un film Interattivo Quello interattivo Sai che non l'ho mai visto? Non l'hai mai visto? Non l'hai mai visto Lo devi vedere Sì sì E secondo me hanno utilizzato benissimo la tecnologia Per fare quel film Interattiva Interattiva Il film aveva diversi finali Diverse possibilità Ti potevi scegliere Ti potevi scegliere Decidi tu come Molto bella Tra l'altro Il personaggio dice in camera È come se qualcuno mi stesse controllando Ok Quindi sfonda la quarta parete Sfonda la quarta parete totalmente Ed effettivamente c'è un'interazione pazzesca Perché tu controlli Lui pensa che è controllato da qualcuno A me è venuta una crisi esistenziale No ma sai cos'è Ci sono nella storia del cinema Dei film Che veramente precursori Cioè non so se avete mai visto Elsa Popping No Ok È un film degli anni 30-40 Ok Quindi ti parlo di Sì 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 E cioè È un film che è fuori di testa Cioè Guardatelo Perché Tra l'altro dura pochissimo Hai preso appunti Chris No Un'ora è qualcosa Ma robe tipo che gli attori Strappano la pellicola Che storia Sì Sai la classica pellicola che ballano Sì 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 E ci sono loro che si arrampicano Cioè fanno delle cose pazzesche in quel film lì Lo devo vedere Guardatelo È un film ovviamente Credo bianco e nero Sì Sì beh Cioè Ci sono dei film che comunque Non sono conosciutissime Ma che hanno sperimentato Sì Cioè questa cosa qua Di parlare al pubblico Piuttosto che Cioè Incredibili Che bello Questo è stato Un altro che una puntata È stata una Una lezione di Una lezione sul cinema Su tutto Sì non so Magari Cioè O rimanevamo in tema Però il cinema A me Mi viene sempre fuori Perché poi Mi piace Quindi ne parlo sempre No Secondo me è tutto È tutto collegato Alla fine La puntata non è Non è su un tema specifico La puntata è su di te Se questi temi E si vedono Che questi temi ti appassionano Alla fine Alla fine È giusto parlarmi Ci trovo sempre Degli spunti interessanti Sul cinema Sul cinema Che poi Negli ultimi Serie televisive Parliamo di un mondo Che ormai è un mix Di cose Cioè ci sono cose Tipo tutto l'universo Marvel È come se fosse Una serie Una serie Oppure ci sono serie Che diventano film Non so True Detective È praticamente un film lungo Tendenzialmente Cioè ogni stagione È un film lungo Quindi ci sono proprio Cioè I due generi Che si mischiano E poi il budget Ormai Stiamo parlando Di budget Cioè mentre una volta Le serie televisive Avevano veramente Un decimo Se non di meno Rispetto a un film Ora i budget Per le serie Cioè Le stelle Adesso si parla Del Signore degli Anelli No Lo sono Lo criticano molto È già uscito no? No 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 Deve ancora uscire Ok Però è tipo La serie Non so quanti Sono hanno 8 episodi È costata 400 milioni Quattrocento milioni Quattrocento milioni Porca puttana Comunque Ci sono film che Cioè anche se tu dividi Quattrocento milioni Per gli otto episodi Stai parlando di Non so Cinquanta milioni Per ogni episodio Cinquanta milioni Per un episodio Wow Cioè in Italia Con cinquanta milioni Quanti film fai? Sì 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 Non so Cioè capito? Non lo so Sto solo pensando Che con tutto Questo budget È come dire No Il direttore Di Di Ritorno al futuro Ha deciso Di non fare più film Ha detto No Assolutamente no Ritorno al futuro È Ritorno al futuro Così E punto Fare una serie Sul signore degli anelli Può deludere Un po' le aspettative Quindi budget Non budget Staremo a vedere Secondo me però La timing è giusta Nel senso che Tipo Quando è finito Harry Potter Per esempio Hanno buttato fuori Animali Fantastici Che cazzo me ne frega Cioè nel senso Non era ancora finito Harry Potter Che hanno buttato fuori Già quella roba l'ano Si aspettavano Si aspettavano Lo stesso successo Invece La timing Sul signore degli anelli È corretta Perché Il signore degli anelli È del Cos'è 2002 2004 2006 Ok Sono passati 15 anni No? Beh Vediamo cosa Riescono a tirare fuori Adesso No? Quindi Cioè non lo so Vediamo Io personalmente Mi Mi aspetto E mi sarebbe piaciuto Un remake Di Ritorno al Futuro Tu che dici? Io sono proprio Di quella genere Io sono cresciuto Con Ritorno al Futuro Anche perché c'è Troppo Tra l'altro Io personalmente Me lo ricordo Il primo Ritorno al Futuro In realtà l'ho visto In televisione Ok Tutti gli altri due Tre li ho visti Al cinema Quando sono usciti Il primo però L'ho visto in televisione E mi ricordo Sempre la Perché I film All'epoca Iniziavano alle 8 e mezza Ok E finivano alle 10 e mezza No? Ma io dovevo andare a dormire Alle 9 e mezza Perché ero piccolo E mia mamma Guai se non andavo a dormire Alle 9 e mezza No? Quindi io ho visto Metà film Di Ritorno al Futuro E mi sono No Me lo sono perso Sì poi mio zio L'aveva registrato Perché all'epoca C'è videoregistratore Ma Io ho passato Credo Una settimana Aspettando la videocassetta Dove Io Nella mia testa Cioè Io ero arrivato Io ero arrivato al punto In cui loro Dovevano capire Come riportare lui a casa Sì Come fare Io ero rimasto Alla scena In cui loro Erano nella stanza E Doc diceva Ci vorrebbe Un L'energia No? Nucleare Oppure Il fulmine Sì Fine Mia mamma mi ha mandato A letto Cioè Ho odiato mia mamma Perché ho detto Ma cazzo Ma Cioè io adesso Come fa a tornare E io Per una settimana Ho pensato A come lui potesse Tornare indietro Sì Cioè E quando l'ho visto Per me è stato Veramente illuminante Perché Ho detto Cioè tu guarda Che lì ho capito Che c'era un lavoro dietro Certo Perché dicevo Cacchio Vedi come hanno risolto la storia Hanno messo un gancio Sulla macchina Sì No? Lui aveva Il volantino Che Perché la torre dell'orologio Era stata bruciata Quel giorno lì Quindi loro sapevano Che quel giorno Ci sarebbe stato il fulmine Per portare il fulmine Dentro la macchina Hanno messo un gancio Che portava Con tutta la spiega Della roba No? Mica Per me è una roba Un copione Pazzesco Una sceneggiatura Pazzesca Poi se tu studi Sceneggiatura Ovviamente poi capisci Tutti i giustificativi Cioè Cosa vuol dire I giustificativi Sono quei punti Della storia Che servono A giustificare Quello che succede Poi dopo E tutto metafilm Di Ritorno al futuro È pieno di giustificativi Certo È pieno di cose Certo Che giustifica tutto Sì Cioè che tu non arrivi A un punto E dici Ma perché questa cosa? È tutto È tutto fatto benissimo Cose che Sulla sceneggiatura Io poi Ho studiato dopo Ma Sono cose che Io quando ero piccolo Quella cosa Le mie Mi aveva proprio Capito Mi aveva proprio Preso Preso Vabbè ragazzi Abbiamo stati Tagliatela Io devo dire che Come ho detto Dall'inizio Averti qua È stato per me Bellissimo Perché in ogni puntata Abbiamo Abbiamo parlato di te O comunque Perché dovevo raccontare Un po' anch'io La mia storia E devo dire che Questo Averti qua Per me Non è È l'inizio Di Una realizzazione Per me Perché Perché Sì 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 No È veramente Secondo me Per alcune persone Sei stato veramente Di Un punto di svolta Perché chiaramente Con tante informazioni Con tanta voglia Di coinvolgere Alla fine Non ti sei accorto però Hai Svoltato la vita Di molte persone Come L'è stata la mia Come il tedesco Che mi ha fermato Con la maglietta Esattamente Non credo Che gli abbiano Che gli ho cambiato la vita Esattamente Per fare un po' Il punto della situazione Informatevi Siate creativi Cercate di coinvolgere persone Collaborare E non rimanere Come tai Sempre A fare il solito Ma L'ho messa male Come frase Ma Di andare Andate come tai A cercare cose nuove A scoprire cose nuove Siate dei nerd Nel Espandere un po' La vostra conoscenza Su quello che fate Perché È la cosa Migliore Che potete fare E non ci sia noia mai Guardate tanti film Guardate tanti film E Qualsiasi cosa fate Tutto è collegato Io quello che ho capito Io quello che ho capito È questo Essere un creative director Di un'agenzia di motion E lui è Fissatissimo con i film Sa tutto sui film Eccetera Questo Può dire tutto Sul fatto di Che tutto è collegato Che tutto Le cose sono connesse Si si E questo è fantastico Mi sembra un buon consiglio Un ottimo consiglio Che cosa diresti A parte il mio Ma un tuo consiglio Per chi adesso Sta iniziando E per chi sta Giusto per chiudere Un po' Sì Ma guarda Facciamo una considerazione Cioè il fatto che Io ai miei tempi No Non avendo internet Il mio confronto Diciamo Con designer Era con Il designer Del mio Certo Compagno di banco Nella postazione No O comunque L'amico dell'amico Che faceva design Oppure le cose Che guardavi in giro Però erano cose Sì Cartellonistiche O cose di questo tipo Non c'era internet Vedo che invece Le nuove generazioni Hanno a disposizione Internet No E uno che All'inizio Spesso e volentieri È spaventato Perché Basta aprire Vianz O basta aprire Vimeo E ti ritrovi I migliori Progetti Del mondo Sì E vieni sommerso Da questa cosa Io all'epoca mia Purtroppo Cioè nel senso Sono cresciuto In una generazione Che io non sapevo Cosa c'era Fuori dall'Italia O fuori anche Dalla mia città No E Quindi Non avere il confronto Mi portava un po' In maniera Un po' più spavalda A dire Sì provo Faccio No Tanto sono l'unico Tra virgolette Poi scopri che dall'altra parte del mondo Ci sono le best Esatto I mostri sacri No Però questa cosa spaventa Cioè il fatto di avere Un confronto diretto Subito Con il mondo A volte ti porta un po' A bloccarti A bloccarti Quindi Io mi sentirei anche Di dire Di non farsi scoraggiare Da quello che La gente vede E magari di provare lo stesso Sì Perché comunque Cioè è l'unico modo Quello di mettersi in gioco Fallire Fallire Capire Capire Qual è la tua La tua direzione Certo Perché molti Vedendo le cose Le migliori cose del mondo Dice E vabbè Tanto hanno già fatto loro Sì Perché io dovrei iniziare A fare design Esatto Invece magari Tu trovi una direzione E trovi il tuo Il tuo mondo Sì Anche all'interno di questo Eh Devo dirti Devo dirti Che sono passato anch'io In questo processo Già quando Le cose erano avanti Sì Infatti parlo della tua generazione Sì Perché io sono più vecchio Sì sì No Quando già Pinterest Vimeo Io mi ricordo i momenti in Alca Che arrivavi Accendevi Vimeo Prima cosa Prima cosa Vimeo Questa cosa Non mi ha demotivato Questa cosa mi ha motivato Cioè Io voglio arrivare lì Sì Io voglio arrivare lì E questo è l'atteggiamento giusto Ed è quello che voglio suggerire Invece alle persone Che invece si sentono Un po' sopraffatte E questo è l'atteggiamento giusto Sì 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 Dire Io mi ricordo benissimo Dei progetti Di agenzie come Non so State Design Oppure Come si dice State Sono Sono Io C'era lo speech Marseo Io L'ho contattato Ah ok Grande Tra le mille cose che ho fatto Tai di robe pazze Di figure di merda Come ho fatto con voi Che ho mandato la mail E dopo un'ora ero lì Hai contattato loro? Ho contattato Marseo Che cosa mi consigli Di là di qua Giusto è vero Ma perché loro sono Lui è brasiliano E ha aperto lo studio a Los Angeles Io l'ho contattato Lui mi ha risposto Abbiamo chiacchierato Cioè Personaggio Cacchio ma se venivi a Barcellona Cioè Lo conoscevo Lo conoscevi di persona Dai spero che ci sia l'anno prossimo Io adesso penso che prenderò i biglietti Chris ci andiamo? Ci andiamo all'off? Un anno prima Ci andiamo all'off Dai sicuramente ci sono Migliaia di cose che Potevamo parlare Magari Facciamo una puntata 2.0 In futuro Perché no Magari Magari con Un altro ospite Se vuoi portare qualcuno E intervistarlo insieme a me Io sono super Lo dico a tutti Nessuno ha avuto mai il coraggio Di farlo Quindi No è super interessante Sì sì Poi trovo che Cioè Mi piacciono molto Quando non conosco La persona E Magari ascolto E dico Che roba interessante Questo non lo conoscevo Ma anche le persone che conosco Ti dirò la verità Mi interessa sentirle Perché Io non ho l'opportunità Di conoscere una persona A livello Lavorativo In questo modo Perché mi fa un po' strano Sedermi a un tavolo Magari A un ristorante E dire Ma tu come hai iniziato Cioè Ma dove siamo Capito Siamo a un ristorante Parliamo di cazzate Sì 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 Cioè Quindi Questo Questo podcast È interessante È per questo Perché tu puoi fare Quelle domande Che non faresti Sì In un'occasione Tipo Aperitivo Sì O cena Sì 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 E qui lo puoi fare Esatto Tra l'altro Te lo dico Secondo me ti interessa Noi apriremo un format Un altro format sul canale Oltre al podcast Ah E parleremo di cinema Parleremo di film e cinema Parleremo di Dei title Mi stai Mi stai invitando a no Ti stai Lì proprio Ciao Io Io ti direi Di partecipare a questo format Poi vediamo con i tempi Con le robe Ti aggiorno Il format sarà Sto dicendo anche alle persone Sarà Sui title Quindi La realizzazione C'è Ce la studiamo prima di fare la puntata E poi Effettivamente Il film Il contenuto In sé Guarderemo la fotografia I visual effects Come Che è la parte di Che bomba La parte di Chris E sarà un format Dedicato a questo A tante persone Piace il cinema E noi cercheremo Di portare un contenuto Cazzeggio E anche un po' Tanto Tanta roba Interessante Bello Molto interessante Parliamone Parliamo Il format lo faremo E faremo anche altre cose Che poi Magari ti dico in off Ho fatto uno spoiler Wow Fantastico Ma vabbè Ma lì mi inviti Veramente Sì 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 C'è il cinema Figurati So che anche The Jack Stupid Loro sono molto ferrati Sul cinema Sì 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 Sono molto Anche loro E tra l'altro Non volevo dire Però probabilmente Sarà lì Il prossimo Il nostro prossimo Studio La location Probabilmente ci sposteremo Da questo studio qua E Tai Grazie per la Grazie per la disponibilità Grazie a voi Di avermi invitato E per la lezione Non è stata È stata una chiacchierata È stata una lezione Pazzesca Sul Sul nostro lavoro E sono molto più Sono ispirato Uscita da Da questa puntata qua E Grazie Vabbè Chris Tu che dici? Andiamo fuori? Facciamo un'altra puntata Facciamo un'altra puntata Dai In futuro In futuro Organizziamo un'altra Un'altra puntata E sicuramente Come ti ho detto Co-host Quando vuoi Quando A Giordano Vengo sicura Sì? Ok Perfetto Allora Ti segno anch'io Per il 30 giugno Lui ha iniziato Come compositor Davvero? Sì Non lo sapevi? Non lo sapevo Spoiler Spoiler Compositing E visual effects Cioè Dal compositing Al visual effects Vabbè Ma questo Non voglio Non voglio Non voglio Anticipare No esatto Niente della sua vita Anche perché In realtà Cioè nel senso Me l'ha raccontato Un po' a spizzico bocconi Non so bene neanche io Che cosa Come è successo Lo approfondiremo sicuramente Me lo segno Lo approfondiremo sicuramente Intanto io vi dico che Noi siamo su tutte le piattaforme di podcast Noi siamo su Spotify Qualsiasi cosa riguarda il podcast Noi siamo lì In audio E su YouTube In video Non siamo su Twitch Andiamo in live Su YouTube Ogni giovedì Alle 19 E Cosa importantissima Se vi piace il contenuto Se vi piace quello che portiamo Mettete like È un favore che fate a noi Noi vi portiamo del contenuto di qualità E mettete like ai video Che Se state guardando Mettete sempre like È importantissimo Io vi ringrazio Seguiteci Ogni giovedì In live Alle 19 E vi porteremo Persone fantastiche Come Tai Cercheremo di farlo Perché di solito Sono difficili Da Da Chiappare Persone Persone così Interessanti Però Cercheremo di farlo Riromperemo le scatole Per venire Io vi ringrazio Per questa puntata Grazie Chris Grazie Tai Per la disponibilità Grazie a voi Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti